Molte volte è difficile avere credibilità Avendo una società, che lo posso dire, ha previsioni contrattuali per circa 650.000 euro quest'anno Ma non ha uno storico, lo storico è lollo baroc Io però ce la metto tutta, io voglio, non mi interessa dei soldi Guarda, sono sincero in questo, non mi interessa dei contratti Mi interessa che alla fine di quest'anno il 70-80% dei clienti sia contento Dice, cavolo che esperienza che ho fatto Perché poi noi ci divertiamo, lasciamo quei video Insomma, il figlio va dal padre e dice Papà, ti ho visto su TikTok, molte volte Max mi dice le figlie, sono contente Oltre questo i clienti che già hanno, questa è fidelizzazione Cioè i clienti che già sono di Max per esempio Dicono Max, ti ho visto su TikTok interessantissimo quello che spieghi Quindi tu fidelizzi ancora più il cliente Ne potremmo parlare all'infino di questo argomento È la mia vita e spero davvero di continuare così Con i miei soci, con i collaboratori, di portarli ad essere veramente direttori E di avere un ufficio, spero come il tuo, un giorno Ed è veramente il mio sogno, anche per dimostrare forse ai miei genitori Che questa strada che ho preso, di cui loro erano un po' in disaccordo Vabbè, già sono, adesso credo che già saranno un po' più accordo Sì, però io voglio fare impresa Non voglio fare l'influencer, io voglio fare impresa perché Ho studiato per questo, ho letto più di cento libri Che mi hanno dato quella volontà di fare impresa Perché io, quando tu mi parli, vedo nei tuoi occhi il piacere dell'attività che svolgi Non i soldi L'ho noto, l'ho notato prima La felicità, che non è il denaro, ce la stiamo facendo A prescindere, io quello Io voglio arrivare un giorno e dire, cavolo ce la stiamo facendo A prescindere da quello che mi metto in tasca, sarebbe il mio sogno Bene, benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'1% Podcast Dove intervistiamo persone che per noi fan parte ovviamente dell'1% Oggi abbiamo un super ospite, anche oggi esperto Lo diciamo tra un attimo Creiamo sempre degli spoiler ovviamente Che è Lollo Baroque Che è un nome d'arte, si può dire, giusto? Certo E ci tengo a precisare che si chiama Lorenzo di Cosmo Perché dice che molto spesso sbagliano il cognome Che è una cosa che abbiamo fatto anche noi Ma lo conosciamo come Lollo, giusto? Piacere di averti qui Lollo È un piacere mio, un piacere mio, ti seguo Seguo tutto quello che un po' riguarda il mondo economico, no? Anche se poi il marketing esce un po' fuori E spero di dare qualche info interessante Assolutamente, anche perché è il mio compito estrapolare Sicuramente tu hai molto da raccontare, no? Ci sono molte cose molto interessanti E che oggi vanno, diciamo che sono interesse del pubblico, no? Di molte aziende che puoi raccontare E senti Lollo, intanto ci puoi spiegare come al solito Come chiedo a tutti i nostri, diciamo, ospiti Chi sei? Dacci tu una panoramica Sì, allora, io sono, come hai detto tu prima, Lorenzo Lorenzo Di Cosmo Ho 23 anni Vengo da Frosinone in realtà Più precisamente Sora Ho un piccolo paese di 30.000 abitanti Quindi immaginate quanto sia stato anche difficile, no? Un percorso digitale Non voglio sempre criticare il paese Ci mancherebbe altro Però nel paese c'è la tendenza a conoscersi tutti E quindi più conosci, più flussi informativi Più giudizio Quindi è stato molto complesso per me Avendo iniziato a 19 anni Poi ti racconterò Ho inserito mia madre su TikTok da pochissimo tempo Con un format con mia sorella Sempre sotto la società di cui ti parlavo Quindi firmati da noi Che hanno raggiunto 19 milioni di visualizzazioni in 7 video E 100.000 follower con un engagement altissimo Quindi tua madre Il profilo di tua madre ha raggiunto questi numeri Questi numeri Però mia madre, insomma, fa la parrucchiera È una signora molto umile È che in qualche modo A Frosinone, giusto? A Sora, a Brocco Stelle in realtà Che è un paese lì vicino Però lei non ha assolutamente la capacità di stare dietro una telecamera Non ha avuto le capacità teatrali E non ha, insomma, non fa parte della nostra generazione O delle generazioni che hanno avuto quella spinta digitale Quindi a volte mi metto con i copioni dietro Mamma riprova Mamma fai Però sono contento perché Come i miei genitori e la mia famiglia ha dato a me Cerco di dare a loro qualcosa che è difficile, no? Anche comprendere la tangibilità di questo mercato è difficile Anche mia madre non si rende conto fino a quando non ti chiedono la foto Ne parleremo comunque E sì, comunque aggiungo qualche info Sono laureato in economia e management Quindi un tiktoker laureato E adesso mi manca un anno Per la specialistica in cattolica In mercati e strategie di impresa E adesso sono anche presidente di una società di digital positioning Quindi diciamo facciamo tante cose Adesso ne parliamo Intanto complimenti perché hai 23 anni E mentre studi, mentre stai studiando Stai creando una realtà importante No, state creando perché poi c'è un team Ma ovviamente non è facile E questo dimostra che mentre hai qualcos'altro Insomma, gli studi richiedono sempre tempo, attenzione, energia Mentre fai qualcos'altro sicuramente puoi anche creare un'azienda Anzi, forse è il momento migliore Che vai a sperimentare Vai sul mercato a capire cosa funziona E senti, poi vuoi parlare anche dei risultati Che a livello anche monetario Di clienti hanno portato alla tua mamma queste cifre Ma soprattutto anche dei risultati Adesso fra poco parleremo Che voi portate clienti Ci farai alcuni esempi Parleremo di vari aspetti E senti, tu parli di digital positioning Come lo definisci tu, digital positioning? Allora, molte volte i miei amici non credono a questa cosa Però digital positioning è un termine Che sembra essere sempre presente Ma in realtà non è presente in alcun libro In alcuna... si parla di brand positioning Ma digital positioning è un termine Non dico coniato da noi Perché mi darei delle aree che non voglio Però noi vogliamo arrivare ad un punto preciso Che è il seguente Ma si può dire che siete gli unici in Italia Che ne parlate o no? Guarda, ne parlavamo prima anche con Mattias Che è il mio socio E poi ne parleremo In Italia ci sono pochissime aziende Che fanno questo Società che fanno questo E tra queste ci sono società Che fanno cose leggermente diverse da noi Posso dire che siamo tra Forse la terza Società che veramente posiziona Da un punto di vista digitale l'impresa Ok Perché è questo per me il digital positioning Cioè posizionare un'impresa Intesa un po' come il concetto Di diritto europeo Quindi non per forza Un'impresa di diritto commerciale italiano Un professionista Un medico di qualsiasi tipo Un avvocato Una persona fisica Una persona giuridica Una qualsiasi attività Che vuole creare non più un valore Tangibile fisico Ma anche digitale E avere un posizionamento Metto l'ultima virgola Dicendo che le ads Le pubblicità Non fanno parte della nostra attività Perché noi non facciamo pubblicità digitale Noi vogliamo posizionare l'immagine Potrei farti dei nomi Una delle persone Con cui stiamo lavorando Che secondo me ha grande potenziale È un medico Maximilian Un chirurgo estetico Che ha seguito Pienamente i nostri consigli Ci crede molto Noi crediamo in lui E ha raggiunto Sette milioni Di visualizzazioni complessive In due mesi Che è un numero importante Poi chiaramente Le visualizzazioni Non sono sempre tradotte In risultati economici Ma è un'immagine importante Ci sono delle persone Che commentano Non vedo l'ora di conoscerti Il tuo carisma Mi ha portato a seguirti sempre di più Mia figlia mi fa vedere sempre i tuoi video Perché quello che dico io è Se Ruzza è arrivato Dove è arrivato Se Fabrizio Corona Al tempo Dei tempi È arrivato Dove è arrivato Se Steven Se Donato con Mollica Ausenza Se Carmen di New Martina Sono a questo livello Non è per le ads Ma è perché hanno creato Un posizionamento digitale reale Cioè sono riconosciuti dal mercato E per me ha un potere esponenziale Chiaro Questo non vuol dire Che chi fa delle ads O fa pubblicità digitale Sbaglia Ma secondo me È un percorso Che deve andare insieme Per essere Per avere il boom Da un punto di vista numerico No? Ecco non so se È passato quello che volevo È passato E senti Voi Prima di dire anche Come siete E come sei Ti sei appunto posizionato Per usare lo stesso termine In un contesto diverso Nell'ambito TikTok E da dove sei partito Però Voi siete specializzati su TikTok O andate anche su altre piattaforme? No ecco Giacomo Grazie mille per questa domanda Perché è interessantissimo Noi Volevamo posizionare sul digitale E dico questa cosa Anche se Oggi crediamo Che TikTok Sia la piattaforma Che Nella maniera più rapida Efficiente Ed efficace Ti riesci a posizionare Chiaramente poi Accanto al posizionamento TikTok C'è bisogno dei contorni C'è bisogno di una cornice solida Però TikTok ad oggi È la piattaforma più forte Io Ho seguito quasi tutte le tue puntate Forse Ne avrò saputo Penso tutte E Sarai d'accordo con me Che TikTok Ha dato una grande spinta Al podcast A livello di numeri Con altre piattaforme Forse Credo C'è bisogno di Tanti più denari E di tanto più tempo Per crescere su Instagram Tre anni fa Ci volevano anni Oggi su TikTok Mia madre e mia sorella In due mesi Sono quasi influencer Scusate il termine Non voglio assolutamente Dire che sono influencer Però Hanno centomila follower Quindi Influenzano centomila persone Quando influenzi qualcun altro Siano influencer Anche una persona Anche una persona Siano influencer Quindi hanno tantissimi Quindi sicuramente Pluri-influencer Chiamiamolo così Allora Quello che ci tengo a precisare È quello che è il nostro metodo Il nostro metodo È chiaramente Tu hai detto Giustamente Non è una Il fatto di avere follower Non è che fai soldi Questo è chiaro Come l'olio Qual è la differenza La differenza è Quando hai un modello di business E sai come vendere Un certo tipo di prodotto O servizio In vari settori Chiaramente Quando poi vai A creare un digital positioning E avere milioni Di visualizzazioni Sicuramente Si può tradurre Molto più facilmente In soldi Fatturato E possibilità Giusto? Sono molto contento Di questo Perché è proprio Quello che dico Cioè i follower In sé Non hanno un valore tangibile Poi però Mi permetto di dire Noi siamo Quattro soci Laureati in economia Come dicevamo prima Sono d'accordo con te La laurea Non è assolutamente Un perno di vittoria Anche perché la massa Insomma È laureata E non ci sono Chissà quanti Insomma Quante persone di successo Il discorso è però Che noi dietro questi video Noi non siamo videomaker Attenzione Noi lavoriamo con videomaker Ma noi facciamo strategie Di digital positioning Quello che dico A tutti i nostri clienti Oggi ne sono parecchi Poi ne parleremo È Questa è la strategia Per arrivare poi A convertire Un prodotto Un servizio Anche con consulenze Da parte nostra Cioè noi siamo Credo Ce la stiamo mettendo tutta Siamo all'inizio Ci stiamo spremendo Perché stiamo studiando tutti Nel frattempo Però vogliamo dare al cliente Il maggior servizio possibile Perché vogliamo veramente Che questa società Non faccia speculazioni Di denaro Ma rimanga nel tempo Rimanga il valore Per i clienti Molte volte Qualche cliente Fa contratti a tre mesi E io dico Fino ad oggi Non ce n'è stato nessun recesso Ma seppure Dovesse esserci un recesso La mia speranza È di stringerci la mano Di dire È stato bello Lavorare insieme Perché le agenzie di marketing Sono rinomate Per essere un po' Fuffa Chiamiamola Lo dico senza problemi Molti sono fuffa Perché vendono niente Loro guadagnano poco Lose lose Esatto Voi fate Non siete Diciamolo Questo rendiamolo chiaro per tutti Il videomaker È un lavoro diverso Da quello che è La strategia dei social Esatto Completamente diversi Noi abbiamo due videomaker Qui davanti Noi diamo la possibilità a loro Di diventare strateghi Di fare la strategia Di fare la strategia Per le cose digitali No Il nostro Diciamo Positioning Perché Pare che ci avvaliamo Anche ovviamente Di consulenti esterni Ma loro possono crescere Io ho detto Se fate solo il videomaker Prendete tot Se fate il videomaker E mi fate crescere i social Avete la possibilità infinita Di crescere nella nostra azienda Chiaramente Quando vai dall'esterno Un conto è andare da videomaker Un conto è andare da persone Che ti dicono una strategia Come fate voi E ti fanno crescere nei social Ti danno visibilità enorme Perché I soldi seguono l'attenzione Guarda Giacomo Non so Adesso se tu hai presente Un altro nostro cliente Per essere in linea Agostino Ricotta Che commenta E distrugge i fuffaguru Ecco Agostino Ricotta Non so se avete presente Agostino Ricotta È una persona Per me molto competente Che era al di fuori Delle competenze social Ma Semplicemente Perché non Non interessava Noi abbiamo creato Questo format Che tra l'altro È anche fuori In qualche modo Del suo mondo Noi abbiamo presentato Questo mondo Dei fuffa Eccetera Creando un format Plurimilionario Che ha per me Cambiato l'immaginario No per me Ne abbiamo parlato Ha cambiato l'immaginario Cioè la sua parola Oggi conta di più Di ieri Poi possiamo essere d'accordo In disaccordo Avrà criticato qualcuno In maniera sbagliata O qualcuno avrà criticato lui In maniera sbagliata Ma oggi la sua parola Conta di più Rispetto a ieri Questo è il digital positioning Per me Ok Cioè Quella parola Ha un valore in più Se oggi Maximilian Il chirurgo parla Forse rispetto a Parità di condizioni Con i chirurghi Competitor Lui ha Un briciolo in più E quel briciolo in più Su grandi numeri Può fare la differenza Ma l'esempio Credo anche Hai nominato Ruzza Adesso ne parliamo Per quello che avete fatto Con lui Sicuramente Ruzza è un grande Come lui ha parlato di te Durante il podcast Noi parliamo di lui No E sicuramente Quando uno va A comprare un orologio A Milano O dove comprare Tu hai comprato da lui Credo Sì Dopo ne parliamo E sicuramente Quando c'è un seguito Come a lui Che si mette tutti i giorni Su social Ci mette la faccia Si fa vedere che è trasparente Io devo comprare Un orologio Lo stesso orologio Che costa meno da una parte O costa magari un po' più Non dico che costa più lui Magari Metti il caso Che costasse anche di più Lo vado a prendere da lui Mi fido di lui Perché faccio un acquisto E vado da chi Ci mette il digital positioning Sicuramente Senti Prima di parlare dei risultati E di tutto il resto Come mai Sei entrato In questa linea Nel senso Perché TikTok Perché è digital Come è nata Qual è la storia Che sta dietro Allora Bellissima domanda Guarda Ti dico la verità Io Mi trovavo nel 2019 Al mio secondo anno Di università A Cassino in realtà Vicino il mio paese Quindi non c'era un flusso Di persone Eccetera Un giorno Io ho letto molto Devo dire Io ho avuto L'ho raccontato in un altro podcast Ma non sono andato nel dettaglio Poi ne potremmo anche parlare Io ho avuto un momento abbastanza particolare A miei 13 anni Un momento buio Che però Sto riflettendo Se dirlo o meno Perché per altri Potrebbe essere non compreso Familiare Ho avuto delle questioni E mi sono rifugiato Più che nella lettura Di libri Proprio nello studio dei manuali Io volevo trovare la mia strada Mi sentivo perso Quindi sono sempre stato curioso Alla ricerca di qualche soluzione Ed un giorno Tra queste soluzioni Mio cugino Lo dico sempre Un ragazzo di bell'aspetto Aveva ottenuto in pochissimo tempo Dei risultati su TikTok grandiosi Ma c'erano pochissime persone C'erano 3-4 colossi Derivanti da musicali Che era là Il previo TikTok Da lì Chiamo Mattias Mio socio da sempre Perché Mattias Che qui È la persona con cui nel 2016 Abbiamo creato un brand abbiamento Non essendo chiaramente maggiorenni Abbiamo dovuto interrompere Ma Di mediocre successo Ne potremmo parlare Si chiamava Eureka Siamo stati sempre insieme Lo chiamo e dico Matt C'è questa piattaforma Io sono poco social nella vita reale C'è questa piattaforma Che secondo me Ha dei numeri importanti Possiamo comunicare qualcosa Possiamo fare Costruire un business Quando ho iniziato a fare i video Io Strutturatissimi Ho creato un personaggio super trash Lollo Baroc Nasce come il principe No? Una persona ricca In realtà Non era assolutamente così Cominciavo a avere dei numeri Importanti Pensa che Un mese fa Ho fatto un miliardo Di visualizzazioni complessive Che non si possono vedere Sull'analitica di TikTok Ma noi le abbiamo segnate No? E questo è un numero immenso Ma perché? Perché al tempo c'era Chi ballava Chi cantava Chi faceva vedere cucina Eccetera Ma non c'era il personaggio Buffo C'era un altro amico Forse perché veniva da Musical.ly No? Esattamente Quindi ancora Cavalcava la stessa lunghezza Esatto Io arrivo con questi video Buffissimi Che probabilmente penso sempre Non so Se li rifarei Sono onesto Fammi un esempio Che video era? Io facevo questi video qui Allora Non c'erano ancora i video di finanza Di guru Insomma Multimilionari a Dubai No? Non c'erano Però io dicevo Guardate ragazzi Invece di stare Perché avevo scoperto da poco Il mondo della finanza 18 anni l'ho scoperto Insomma E ho cominciato a fare dei video Dove dicevo Guarda è inutile che tu stai seduto Sul divano Perché Mentre tu stai seduto sul divano Il mercato si muove E c'è chi fa soldi C'è un video Dove parlavo del mio range Da 100.000 In realtà un range Che costava molto di meno Un range rover Velar Però Ecco Davo questo Sì Hai creato un personaggio Mi presentavo come non ero E dico questo Perché a un certo punto Io facevo le live Dalle nove a mezzanotte Tutte le sere A un certo punto Dopo tre mesi Ho attuato una strategia Che non tutti fanno Che è quella di svelare la realtà Mi sono assunto Le responsabilità Di non essere più seguito Ho detto ragazzi Io ho creato una strategia Io voglio fare lo stratega Non voglio fare l'influencer Io non metto la foto del piatto E cos'è che non rifare? Sono curioso Non rifaresti il fatto di Sostanzialmente dire una cosa che non è Giusto? Oppure Non rifaresti questi video? Non rifarei questi video Probabilmente Allora Con il senno di poi È tutto semplice Se sono anche qui a parlare O ho una società Forse è grazie a quello Però Con un po' più di tempo Oggi è quello che consiglio I nostri clienti Evitiamo Allora Se io prendo questa bottiglia E la lancio su una persona E le faccio del male Il video va virale Però quello non è posizionamento Io questo non lo sapevo all'inizio Ho dovuto studiare Ho dovuto leggere Ho dovuto conoscere persone Importanti Mentori Tra cui c'è anche Ruzza Ci sono persone da cui ho preso E forse è meglio un po' di tempo E non accelerare Io in un mese sono diventato famoso Mi permetterei questo termine Giacomo Famoso nel senso Che va proprio popolare Ho fatto un miliardo di visualizzazioni Allora oggi ho un milione Un milione e duecentomila follower Ma io dopo un mese Ne avevo centocinquantamila In una piattaforma Che era Tosta all'inizio Sei famoso Se un milione di persone ti conoscono Vuol dire che sei famoso Sì però poi il concetto È tutto relativo È famoso Ricco non ricco Però Esattamente E probabilmente Guarda Tornassi in io Direi Piano Faccio conoscere la persona che sono E ci metto un pochetto più di tempo E questo per le imprese È complicatissimo Perché Il marketing Lo saprai benissimo O me lo potrai anche sconfermare È una voce di costo Quindi spendere in marketing Se non sei proiettato E non sei proattivo Cioè non riesci ad anticipare Quello che ti potrà portare il marketing La vedi come una voce di costo E vuoi tutto subito Quei clienti invece che abbiamo adesso Con cui lavoriamo Con cui abbiamo una collaborazione forte Che capiscono qual è Il lungo periodo Stiamo facendo dei progetti Per me fantastici Visivamente fantastici Posizionanti Colorati Che creano valore Le persone interagiscono Al posto di fare un video Che fa 2-3 milioni Però non ti stai posizionando Stai creando Io mi sto pulendo adesso Con te Con questo podcast È un processo di pulizia Del mio posizionamento Di un trash che ho alle spalle E che non mi vergogno di dire Ecco questo Sì vabbè Già il fatto che l'hai detto Allora secondo me Te lo dico come vedo dall'esterno Secondo me è fatto Diciamo che Non è da rinnegare Quello che avevi fatto prima No Soprattutto perché l'hai svelato dopo Certo Il fatto di metterti davanti Trasparente ragazzi Guarda che non era così E adesso lo stai raccontando Secondo me È un bel brand No Un bel brand positioning Adesso parliamo di brand positioning E anche digital positioning Perché ti dà l'idea Adesso racconto ragazzi Ho fatto quella cosa lì Non ne Stai dicendo che magari Non so se la rifarò O roba del genere Però ti dà l'idea Questo ragazzo È un ragazzo serio Che si sta evolvendo Che sta facendo Sì sì perché guarda Non so Giacomo Io dopo un mese Piacendomi molto la finanza E avendo un contatto Con i professori di finanza Alle nostre università Creiamo una prima associazione Trifinance Che oggi È Trifinance SRL Perché Quello che volevamo fare Al tempo Era comunicare La finanza Ai ragazzi giovani Non vendere corsi Non vendere Non gestire Chiaramente Soldi di altri Anche perché con Consob Sono tutte le normative Quindi non potevamo farlo E abbiamo creato Una bella dinamica culturale Noi siamo andati In 21 scuole Da quel personaggio buffo Siamo andati in 21 scuole O 22 Mattias mi correggerà 21 21 A parlare di finanza Ai giovani Con molti che mi scrivano Ma tu come ti permetti Di parlare di finanza Sei un mammoccio Io dico guardate Che io non sto parlando Di finanza Dicendo che sono diventato ricco Sono uno studente di finanza E voglio comunicare Questa mia passione agli altri Abbiamo realizzato Tre libricini Finanza a piccoli passi Volume 1 Volume 2 Volume 3 Che sono andati a marzo Anche in trend Su No Se consideriamo parole chiave Google eccetera E sono molto contento di questo Perché quando i ragazzi Della nostra community Hanno letto quei libri Non hanno chiaramente percepito Il metodo per la ricchezza Ma hanno cominciato a capire Se effettivamente Quella Quella argomentazione Quella materia lì Potesse Piacerli Potesse Appassionare No Potesse in qualche modo Essere Il loro futuro Anche universitario Quello è stato per noi Poi a un certo punto Finito il covid Ci rendiamo conto Che la finanza Tirava sempre di meno Perché noi abbiamo All'interno Oggi la nostra società Anche un analista di mercato Che nasce da quei tempi Dove ci siamo resi conto Che il covid Aveva In qualche modo Dato molto tempo libero Alle persone Quindi molto tempo Di preoccuparsi Di cose Che probabilmente In altri contesti E proprio perché La finanza è scesa Abbiamo deciso Di mantenere Questa nostra organizzazione Per lavorare sul mio personaggio E per fare quello Che ci riesce meglio Cioè Comunicare Da un punto di vista digitale Come te In qualche modo Assolutamente Poi ti chiederò anche Cosa ne pensi Il nostro digital positioning Prima non ti ho detto niente Prima del podcast Te lo volevo dire Qui almeno Non ci pensi Nel frattempo La risposta più diretta Trasparente possibile Però Ti chiedo prima di tutto Lollo Baroc Che nome Da dove deriva questo nome? Allora Lollo Baroc È un nome Che Io ho dato diverse spiegazioni Però Chiamandomi Lorenzo C'era Lollo Come Insomma Tutti i miei amici Mi chiamano Lollo Mia madre Mi chiama Lollo Anche un po' Un nome da bambino Quindi però Vabbè Di solito Lorenzo viene spesso Trasferito in Lollo Trasformato in Lollo Poi Baroc Nasce In realtà Per questo aspetto Un po' Esoso Del Baroc Il periodo storico Artistico E quindi mi piaceva Quest'idea Anche se Questa è un po' Romanzata Perché c'era La mia ragazza Del tempo Chiara La vuole saluto Non ci parliamo più Ciao Chiara Che mi chiamava sempre Lollo Baroc Perché io sono un po' Stupidino Capito Mi piace Stupidino Mi diverti Mi piace fare Quando sto con le persone Mi piace intrattenere Mi piace divertirmi Non mi piace mai stare col telefono Per esempio una cosa che odio Cioè io Quando sto a cena E vedo una persona col telefono Che non risponde alle mie domande E si distrae Perde tutta la mia Cioè mi proprio Nervosisco Quindi quando sto con le persone Voglio dare il meglio di me E allora Sono anche un po' Credino A volte Faccio battute A volte sono anche un po' pesante E poi da lì nasce Lollo Baroc In realtà non c'è una struttura Vera e propria Ce l'abbiamo data noi Ecco Lollo Baroc nasce così E è rimasto Ed è praticamente la firma Anche l'incisione Che sto per fare il mio cartier Sarà Lollo Baroc Sulla mia Beg Louis Vuitton OLB Non più Lorenzo Di Cosmo Perché è Lollo Baroc Che ha creato Quel bene materiale Io la vedo così E quindi è giusto Che la firma sia del personaggio Non della persona Ah molto bello Mi piace molto questa cosa qui E quindi tu stai diventando Lollo Baroc Diciamo così Sì Sì Io credo che Allora Voglio mettere un piccolo punto Lollo Baroc È proprio distinto da Lorenzo Per quello è giusto Che Lollo Baroc Firmi determinate cose Mentalmente La mia testa Perché alcune cose Sono Lollo Baroc Le amicizie La mia fidanzata Il rapporto con mia madre Il mio rapporto con i professori I miei voti scolastici La mia azienda È Lorenzo Di Cosmo Una persona Credo Questo lo dovranno dire I miei soci e collaboratori Una persona molto seria Una persona che vuole fare tanto Una persona che vuole lavorare Non vuole fare soldi facili E poi c'è Lollo Baroc Una persona divertente Perché una persona seria Non può essere anche divertente E questa è una cosa Che credo di aver fatto Solo io Nella storia di TikTok Super super Sono veramente contento Di averti qui Perché TikTok È una piattaforma nuova Che va implementata Sfruttata Cresci velocemente Ma puoi anche farti male Velocemente E Ne parleremo fra poco Di farsi male O pensare di farsi male Poi ti spiego perché Però Parliamo dei risultati Nel senso che voi Siete nel mercato Da quanto tempo Più meno Fate questa cosa qui Allora Abbiamo tanti collaboratori Più di 10 Insomma lavoriamo bene Il ramo che si occupa Di digital positioning È tricky dm Che sta per Tricky digital management Perché noi abbiamo Una tipologia Contrattuale Che abbiamo Noi denominato CIM Che è chiave in mano Cioè se un cliente Ha un bar E lavora 8 ore Oppure La domenica Vuole riposarsi con i figli Lui non deve assolutamente Avere nessuno sbatti Da un punto di vista Di creazione E contenuti Lui deve Se vuole Quindi voi è andato da loro E fate tutto quanto Tutto quanto Ma completamente Loro Noi chiediamo al cliente Solo l'approvazione Ma noi arriviamo con il format Il mutamento format Perché il CIM È 3 mesi 6 mesi 12 mesi Non facciamo meno di 3 mesi Non facciamo più di 12 mesi Eventualmente si rinnova Tra l'altro Diritto di recesso Con un mese di anticipo Quindi noi siamo anche molto Diamo grande libertà elastici E questo permette al cliente Di provare No? E noi arriviamo con Il nostro regista Noi abbiamo all'interno Il nostro team Un regista Un laureato In regia comunicazione Che trasforma La mia idea Perché diciamo che poi Il direttore format sono io La mia idea è Molte volte astratta Cioè è stato bisogno E questo lo devo anche Al team Ai miei soci Che hanno in qualche modo Trovato la strata Di trovare questa persona Fortissima Mauri Che traduce Le mie idee E le concretizza C'è Omar Che è laureato all'OIED E che è il nostro videomaker Fortissimo E poi ci sono tanti collaboratori C'è Martina qui Che lavora Che è attrice In alcuni ruoli Alcune aziende possono dire Io voglio fare Voglio posizionare la mia impresa Ma non voglio Farmi vedere Bene Noi abbiamo all'interno Un team di persone Che prepariamo Già preparate Domani Anzi questa sera Arriverà a Milano Un attore Che abbiamo In qualche modo Cercato Perché facciamo una bella Attività di recruitment Devo dire E domani lavorerà Per un'azienda Quindi diciamo Ecco Questo è quello Che noi facciamo Penso che in tanti Avete ascoltato il mercato Mi sembra Perché in tanti Magari non vuoi Apparire Non porre la telecamera No questo non lo voglio fare E voi avete la soluzione Perché chiaramente Portate avanti Portate davanti La telecamera Gli attori Veramente molto in gamba Avete Poi tra l'altro Siete giovanissimi Perché tu hai 23 anni A parte che studiate tutti Quindi già questo dice Il fatto che siete giovani Sì Mattias Quanti anni ha? 21 21 21 21 Io 23 Ok Ma il nostro rim È sotto i 25 anni Sotto i 25 anni E devo dire una cosa Che ha trovato molto contrasto Noi cerchiamo Per adesso Delle persone laureate E ti dico perché Questo è un tema Che mi piacerebbe affrontare Adesso lo affrontiamo Perché Io credo che ci siano persone Non laureate Anche più forti Delle persone Che sono il nostro team Però voglio premiare Quel sacrificio Perché io ho fatto Tanti sacrifici Io mi sono veramente crepato Cioè io ricordo Quest'estate Che dovevo lavorare La mattina Fare i video Per Rollo Barocchio Il pomeriggio E la notte Studiare sistemi probabilistici Con le matrici Che casomai Non mi servirà niente Ma mi ha dato Quella forma mentis Per resistere Poi Come parlavamo fuori La forma mentis Te la dà il lavoro Quello sicuro Però noi abbiamo Quest'idea per adesso Cioè vogliamo Assumere persone laureate Anche perché abbiamo speso Così tanti soldi Per questi Perché io sono in cattolica E gli altri soci In Bocconi Per cui dico Ok La laurea È una cosa importante Voglio che Venga riconosciuta Perché Da per me Da solo disciplina A me non è rimasto niente Di digital positioning Mi ha dato solo La disciplina Sì Vuoi far chiarire Con chi ci sta ascoltando Perché poco fa Prima di iniziare il podcast E io sono d'accordo con te Mi ha chiesto Ma anche se siamo disaccordi Questo è bello Della conversazione Certo No 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 A me piacciono tutti i punti di vista Comunque Lollo Sta dicendo questa roba qui Perché prima del podcast Mi ha chiesto Cosa ne pensi dell'università Io ho detto Per me l'università Io non la guardo Non so nemmeno Se chi lavora con me L'ha lavorato o meno E il motivo Per cui dico così Che lo credo fermamente È che Non per tutti i lavori Necessiti dell'università Chiaramente E ho detto anche Che il lavoro sul campo Come tu hai detto adesso Il lavoro sul campo Per me è molto importante Ed è più importante Per me dell'università Ma Chiaramente Non sono nemmeno In disaccordo con te Molte volte è successo Più volte Non molte Ma più volte nei podcast È successo Che non è che Siamo tutti d'accordo Forse anche a Lorenzo Ruzza Ho detto qualcosa Non sono d'accordo con te Forse i soldi Non fanno la felicità Io ho detto di sì Fanno una felicità E ho spiegato perché Ma a parte quello Il punto è che Comunque Mi piace questa cosa Che tu premi il sacrificio Perché lo stai Stai avendo questa esperienza E dall'altro lato però Non è che Che uno Che è laureato Vuol dire Cioè è una cosa in più Io dico sempre Il talento allenato Batte quello innato 10 a 0 No? Per fare un altro esempio Diverso Certo Ma se uno è Innato e allenato È il plus Ed è proprio questo il tema Allora chiaramente Scusami tu per esempio Stai studiando Ti stai laureando Ma stai facendo sul campo Quindi questo qui è un plus Un mix di roba Che moltiplica Giusto? Attenzione Voglio anche dire una cosa Ci tengo Innanzitutto Non è che se c'è Una persona non laureata All'intero del suo team Non la prendiamo Cioè assolutamente no Non fate come a me Con chi fuma Perché io non prendo chi fuma No? Ah è vero Questa cosa la so Però posso dire O sei chi ha smesso qui Da qualche parte Posso dire Posso dire Potrebbe essere giusto O ingiusto Ma alla fine Questi modelli di disciplina Hanno il loro senso A me piace Sono valori Come chi dice Non è giusto Che avere la divisa All'interno di un'organizzazione Ma se in ufficio Io sono d'accordo Noi stiamo facendo Delle divise Sai quando si metteva Il Green View A scuola L'idea è giusta Essere tutti uguali E noi all'interno Nella nostra società Siamo tutti uguali Non esiste il capo E ecco il motivo Per cui abbiamo fatto Una divisa In collaborazione Con Garment Workshop Tra l'altro In esclusiva una capsule Che non si venderà Però sto spoilerando Tanto in questo podcast E arriveranno Poi te le farò vedere E caso mai te ne faccio avere Una di maglia Del nostro team Vabbè qui sotto Mettiamo la lista di attesa Nel caso in cui No però non le venderemo mai Però ci tengo Perché è un bel prodotto Magari assolutamente E voglio dire questo È un plus E ah ecco Una cosa importante All'interno del mio corso universitario Ci sono alcune persone Che adesso fanno parte Del mio team Questo per me è bellissimo Persone che ci siamo conosciuti In aula Tra cui Martina Che è qui A fianco Ho detto io Ho questo sogno nel cassetto Vuoi partecipare? Sì Ma ci sono anche persone Che hanno detto no E persone a cui non l'ho chiesto Perché sono quelle persone Che stanno sul libro Dalla mattina alla sera E che quando provi a risolvere Un problema Che sia anche un gioco sul telefono Vanno in panico Quando io ho proposto a Martina Che è come me Laureata in Economia e Management Facciamo dei video per Martina ha detto Ma io non l'ho mai fatto Ti va di provare? Sì E l'ha fatto a un gran successo Abbiamo portato a un brand Che è Amur Milano Dei numeri Chiedo la regia Credo Superiori ai 10 milioni complessivi Giusto? Cioè per me questo è tanta roba Crescere insieme Complimenti Complimenti veramente Mi piace E ovviamente ogni azienda Ha il suo valore Non è che io dico che Uno non deve prendere Nessuno se fuma E io lo faccio io Tu hai i suoi valori Io i miei Ognuno ha i suoi L'importante è avere valori definiti Certo Mi piace molto perché siete molto avanti A 23 anni Siete 23 anni 21 20 Insomma siete molto avanti Ti faccio un'altra domanda Allora parliamo Prima di parlare dei risultati Che avete con i vostri clienti Che sono belli Importanti Prima di parlare di questo Ti chiedo Come gestite? Come lo vedi? Il fatto degli haters Là fuori Io intanto li stuzzico E li Si infiammano Allora Tu come la vedi questa roba? Io sono stato colpito 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 E colpito E dico anche giustamente Perché portavo in qualche modo Un contenuto criticabile Ed era anche la mia strategia di successo Pari di quando hai fatto quella Si ma anche con mia sorella C'è un format Che è uno dei trend più forti in Italia Con mia sorella Lollo e Rebby Che ha dei numeri spaventosi Giriamo più o meno su 300 milioni Ogni tre mesi Di contenuti Almeno ti parlo dell'estate scorsa Io faccio dei video ironici Rebby può giocare a carte? Rebby può giocare a calci? Io dico no Non può perché deve studiare Dei video completamente ironici Lo sanno tutti Ma continuano comunque a criticarmi Ci sta Non considero assolutamente l'hating La vedo come una cosa normale Succede tra una committiva di 5 persone Succede figuriamoci su un milione Di persone E immagina questo Giacomo Io ho dovuto dire a mia madre Di creare questi video E se adesso Dopo ti faccio vedere Ti faccio vedere 800-900 commenti a video Dove dicono Anche la mamma è severa con la figlia Mia madre giustamente mi dice Lorenzo ma io non sono severa Io stavo scherzando Credo che bisogna fare un'attività di preparazione E noi lo facciamo con i nostri clienti Scusa mi sembra un po' una marchetta Ma ce tenevo Preparazione con i clienti Prima di fare i video Esatto Quando un cliente Immaginiamo con te Giacomo tu vi dici Guarda Lorenzo mi piace Quello che volete propormi Come forma su TikTok E io ti dico Guarda Giacomo Tu sei pronto Preparato E puoi insegnare a me Però c'è anche una persona Che di social non sa niente Di marketing Il digitale come te Non lo sa E io dico Guarda Vuoi metterci la tua faccia? Noi arriviamo a questo livello Te lo garantisco Ma tu lo devi resistere Non voglio fare nomi Ma c'è un'attività che gestiamo Che ha avuto questo problema Ha avuto un'esposizione così forte Che a quel punto si è trovata Cioè non so se voglio continuare a farlo Io dico Io sono con te Io l'ho subita questa cosa Guarda che dietro quest'angolo C'è il successo Il digitale è questo E qua dico a tutti quelli Che criticano chi si espone Eccola la grande sofferenza Non è per tutti E tu Penso me lo puoi confermare Con anche la mole lavorativa che hai Noi stiamo creando un brand Proprio su questo Forse hai visto qualcosa Prima mia moglie È venuta qua con il loghetto Non vedo l'ora di farvelo vedere Di buttarlo là fuori Lo faremo all'evento di Rimini Tra 4-5 novembre E io amo gli haters Gli haters sono i miei consulenti Gli haters sono la mia benzina Cioè Un haters quando ti critica Io molte volte non sono d'accordo Con delle persone là fuori Dico ma che cazzo sta facendo Questo Non è che mi fermo lì O commento Vado avanti e non lo ascolto Quando uno si ferma Dedica del tempo Che è la cosa più preziosa Invecchia Sta invecchiando Nel commentare qualcuno C'è qualcosa che quello lì ha Che lui non ha 100% Guarda io sono d'accordo C'è un artista Un rapper Che è lo che Che in un testo dice Questa frase bellissima Che è Difendi le tue idee Allora Per me è questo L'hater non ha questa caratteristica Il critico difende le proprie idee L'hater giudica e basta Io chi critica lo ascolto Se sto qui oggi Veramente Io potrò fallire anche domani Ma sono contentissimo Di quello che abbiamo fatto Sono contentissimo Le persone che mi circondo Di cui Mi circondo E loro sono Sanno criticare Metto una foto che non piace Lorenzo Qui ti vedi un po' Il rossore laterale Meglio che ti trucchi un po' Perché Hai il rascutane O mi succede a volte Questa è la bellezza Questo è il critico L'hater non difende le proprie idee Appena gli scrivi Sai che faccio io Mi scrivono cose pesanti Tipo Muori Spero ti venga un tumore Così Dico guarda Io rispondo così Spoiler Quindi adesso non funzionerà più Rispondo in questo Dico guarda Mi devi scusare Però questo profilo È gestito dal mio management E dobbiamo provvedere Alla denuncia Alla polizia postale Non mi volere male Ma i termini sono troppo fatti Ti prego di chiedo scusa Io scherzavo È stato il mio amico Questa è Non difendere le tue idee Perché se a quel punto Mi dici Denunciami che vengo E ti uccido A quel punto dico Cazzo Forse meglio che non rispondevo E quindi Io con lei Però non hai spoilerato niente Perché effettivamente Si può denunciare per diffamazioni In molti casi Nel senso Per esempio Mia sorella ha 14 anni Quindi per me C'è una tutela grande Io quando sono Io vedo tutti i commenti Sto molto attento Ai suoi tratti della personalità Che come ci insegnano Tanti psicologi È proprio questa l'età 13-14 anni Tu formi la tua personalità Insulti forti Potrebbero segnarla Io ci sono molto dietro E sono anche pronto A eliminarle Tutte le piattaforme social Nel caso in cui Dovesse esserci Un'esagerazione Perché Io credo questo È sbagliato Eitare È sbagliato Criticare in questo modo Così crudo Ma sono anche Da parte della tutela Della nostra persona Se vediamo che è esagerato Non voglio andare In tribù Smetto Smetto Perché a quel punto Il rapporto beneficio-sacrificio Non ne vale più la pena Non è che puoi denunciare Tutti quanti Gli italiani E quelli che ne saranno sempre Poi io resisto Però non so Mia sorella Penso anche tu Sei una persona Molto resistente Per forza Tanto Chi vuole fare qualcosa Al mondo E dico anche Gesù È stato crocifisso Esatto Oggi ancora parliamo di Gesù Ha creato un business Per migliaia di anni Quindi Guarda Gandhi Guarda Elon Musk Io sono in cattolica Sono in cattolica Università cattolica 10.000 euro l'anno Pensa che business Esatto Vedi Nel senso Se non è un business quello Diversificato anche Chissà che consulenti hanno Esatto Insomma c'è un marketing Marketing della Madonna Ha preso 12 persone E poi ha diffuso Una tra l'altro L'ha anche tradito Poi negli anni Ha diffuso Un'azienda vera e propria È un'azienda C'è tutto leadership Questo è un esempio Che noi facciamo molte volte Ma il punto è che Ci prendi Gandhi Maria Teresa Martin Luther King Queste sono tutte persone Che hanno fatto grandi cose Sono state odiate E dico sempre Se tu ti fai odiare Dal 50% della popolazione Puoi essere eletto Come presidente Giusto Quindi gli haters Servono Servono ragazzi Vedi volete fare qualcosa Se avete paura degli haters Ed è normale Ma se non passate questa paura Non la volete abbastanza Cioè non volete abbastanza di risultati Guarda È come il tema di andare Sempre trucco Adesso trovo un tema un po' particolare Però andare sempre Truccato all'università Andare sempre Parte tutto il tema Dell'accettazione Ognuno fa quello che vuole Anche io Mi metto questa giacca Anche dispendiosa Perché mi sento bene Ma non mi serve a niente Però il discorso qual è? È che L'approvazione di tutti È impossibile Faccio un esempio Il nostro logo Il logo che abbiamo Definito per la nostra società Ha l'accordo di maggioranza Perché uno dei nostri Non è d'accordo Ok Siamo tre d'accordo Uno no Quindi In quattro persone In quattro La disapprovazione è la normalità Come il genitore che vuole farti uscire Scusatemi Tu che vuoi uscire Il genitore che non vuole farti uscire No? È la normalità Quindi non possiamo pretendere Di piacere a tutti No? Assolutamente Quindi Non puoi piacere a tutti Non puoi Mai Mai Senti Ti faccio un'altra domanda Parliamo di numeri Di clienti I numeri di clienti Sono curioso Questo è un tema delicato Non ne ho mai parlato Ma ho avuto l'approvazione Di alcuni Del mio socio Sapevi che venendo qui devo Allora ogni Le risposte Prima di dare una risposta Guardo Vedo se posso dirlo E lo dico Dai inquadriamo anche lui Inquadriamo Dai entra in camera dopo Entra in camera Vabbè a parte che già Stiamo registrando qualcosa Lo monteremo sopra E comunque Quali sono diciamo I clienti Con cui avete lavorato meglio Che risultati hanno raggiunto Così da farvi conoscere Già vi conoscono in tanti Però magari anche la nostra audience Può capire un attimo Cosa aspettarsi Per me è un piacere Certo Allora innanzitutto Noi non abbiamo assolutamente Pubblicizzato Da un punto di vista digitale La nostra società Lavoriamo solo con persone Interno Quindi passaparola Possiamo definire passaparola Sì perché lavoriamo con clienti Che ci piacciono Però adesso inizieremo Chiaramente la nostra attività di marketing Come ti dicevo È da poco nata Dobbiamo prendere un ufficio Qui a Milano Ci stiamo strutturando Per adesso ci concentriamo Su lavorare con clienti Allora attualmente abbiamo Circa Una ventina di clienti Tra CIM e incontro Che è il termine Che abbiamo coniato Per le consulenze Perché noi non facciamo Consulenze digitali Ma noi siamo presenti Per più mesi Ok Quindi incontro è per dire Ok Non facciamo noi video Non siamo sempre noi presenti Non facciamo modifiche strategiche Ma ti presentiamo Una strategia Due strategie Poi in base Chiaramente all'aspetto contrattuale E ti seguiamo per uno Due tre mesi E ti insegniamo Anche al tuo personale A fare video per esempio Io dico Ma se hai Un responsabile marketing Perché devi pagare Una società di consulenza Cioè questo va anche contro di noi Molte volte dico Facciamo questo incontro Io preparo Quella persona A farti contenuti Per tre mesi Cavolo Penso di riuscire a prepararla Sempre nelle nostre Insomma Le nostre competenze Noi abbiamo lavorato Con molti clienti Allora Agostino Ricotta È stato uno dei nostri Primi clienti Prima di Agostino Ricotta Facciamo solo consulenze Perché non avevamo struttura Per fare il CIM Per il chiave in mano Per gestire E Agostino Ricotta Ha raggiunto dei risultati Veramente importanti Cioè La differenza tra noi Un'agenzia di marketing È che Agostino Ricotta È riconosciuto Cioè su 15 persone 6 persone Sanno chi è Agostino Ricotta Ok Abbiamo lavorato Con molte persone Nell'ambito bar C'è un bar della Cattolica Che abbiamo portato A risultati ottimi Abbiamo fatto Questo non posso spoilerare troppo Abbiamo fatto anche Delle consulenze di pasticceria Per vendere i commerci I loro prodotti Ecco quello che noi facciamo Quindi facciamo questo format Su TikTok Per vendere poi Questo cornetto Certo Non posso dire il nome Perché Si sta anche brevettando Probabilmente Anche se sull'aspetto Curinario è particolare Quindi non voglio dire scemenze Un brand di gioielli Amor Milano Un chirurgo Adesso abbiamo iniziato Go Garment Workshop Che è il mio brand preferito Perché Barengo Proprietario È stato un Mio caro amico Che ha creato Quanto costa il tuo outfit Non so se avete presente Lui ha fatto la storia Dello streetwear Ha creato questo brand Ci siamo conosciuti Siamo diventati amici E da che io compravo I suoi brand Adesso gestisco Insieme chiaramente Gestisco Tri Finance SRL La comunicazione TikTok Con un format abbastanza interessante Che risultati hai raggiunto Se possono dire i numeri Numeri Pare che sono pubblici Numeri Numeri Di visualizzazione Allora credo che Se consideriamo tutti i clienti Siamo sopra I 100 milioni Dipende Con Agostino Ricotta Anche se adesso Abbiamo anche reperto Un nuovo profilo Adesso stiamo creando Un altro profilo Business Ma questa è una strategia nostra Che non diciamo Perché crediamo Che sia un know-how nostro Poi casomai ne parliamo Molto interessante Assolutamente Agostino Ricotta Ha raggiunto Credo 15 milioni Di visualizzazioni Con un engagement Altissimo 50 mila follower In due mesi e mezzo Cioè Dei numeri pazzeschi C'è il click chiama Il click chiama sul profilo Ha superato Dei numeri importanti Non voglio dire questo Perché poi anche Cose sue personali No Però Tanti numeri Con Garment Workshop Abbiamo pubblicato Quattro video E siamo intorno Ai 60 mila visualizzazioni Con quattro video Con quattro video Rebbi e Dani Che è un progetto Creator Quindi siamo fuori Dall'impresa Noi non prendiamo Creator Non prendiamo Talenti artisti Solo mia sorella E mia madre Abbiamo dentro A meno che non ci siamo Però è un'impresa anche lei Cioè è stata un'attività Sì però Mi sono spiegato male Prima È il profilo di mia madre Quadu Di mia sorella Quadu Quindi è Rebecca Ok Ok Però se c'è Chiaramente un talento Che interessa E so che posso fare forte E mia sorella ha raggiunto Con mia madre 100 mila follower Con nove video Otto video Con Visualizzazioni Se me le controlli Me lo dici Lo dico Poi abbiamo Un'attività Che ci ha veramente Fatto Ce ne abbiamo tante Però dico Questa è basta Che è veramente Per me è stata una sfida Questa attività Di Economia circolare Quando loro ci hanno chiamato Io e Mattias Ci siamo visti Che abbiamo fatto Il primo incontro Abbiamo detto Con i nostri candidati Sarà tosta Comunicare rame Su TikTok Anche in quel caso Siamo sui otto video E siamo più o meno Sui tre milioni Di visualizzazioni Con duemila follower Con Non so se 150 chiamate Molte chiamate Ma il tema è questo L'ho detto a Mattias Un giorno Ho detto Tu non vuoi andare dal cliente E dire Conversioni Conversioni Non mi interessa Se c'è la ricerca La conversione rapida E non voglio fare niente Io voglio posizionarti Come immagine Quello che facciamo noi È dare visibilità Vera Pura Non comprata Certo Anche perché Il contenuto organico Non è marketing Che risposta diretta No copywriting Che risposta diretta Direttamente Noi siamo specializzati In quello Ma è una cosa A lungo termine Per quello non fate contratti Da meno di tre mesi Immagino No ma non avrebbe senso Non avrebbe senso Però sono Io dico molte volte Al cliente Ad esempio Costino Ricotta Stiamo facendo un bel percorso Agostino è una persona Che sta investendo molto Sono molto contento Ci ascolta E abbiamo portato i risultati Stiamo facendo questa attività Di In qualche modo Fusione Tra un'attività Organica Un'attività In qualche modo Che prevede investimenti In ads Pubblicità Anche televisiva Probabilmente Con una Un canale Chiaramente non Tra i primi sette Però stiamo facendo un bel percorso E sono molto contento Perché Lui è stata una sfida Per noi Parlare poi Con una persona adulta Con le persone sopra I 40 anni 50 anni Io che ne ho 23 Matias che ne ha 21 Molte volte è difficile Avere credibilità Avendo una società Che lo posso dire Ha previsioni contrattuali Per circa 650 mila euro Quest'anno Ma non ha uno storico Lo storico è l'hollo baroc Io però ce la metto tutta Io voglio Non mi interessa dei soldi Guarda Sono sincero in questo Non mi interessa dei contratti Mi interessa che alla fine di quest'anno Tutti i clienti Tutti no Perché sennò torniamo al discorso Che non possiamo piacere a tutti Ma che il 70 80% dei clienti Sia contento Dice Cavolo che esperienza che ho fatto Perché poi noi ci divertiamo Lasciamo quei video Insomma Il figlio va dal padre Dice papà ti ho visto su tiktok Molte volte Max mi dice Le figlie sono contente Oltre questo i clienti Che già hanno Questa è fidelizzazione Cioè i clienti che già sono Di Max per esempio Dicono Max ti ho visto su tiktok Interessantissimo Quello che spieghi Quindi tu Fidelizzi ancora più il cliente Ne potremmo parlare all'infino Di questo argomento È la mia vita E spero davvero Di continuare così Con i miei soci Con i collaboratori Di portarli ad essere Veramente direttori E di avere un ufficio Spero come il tuo Un giorno Ed è veramente il mio sogno Anche per dimostrare Forse ai miei genitori Che questa strada Che ho preso Di cui loro Erano un po' in disaccordo Beh già sono Adesso Credo già saranno Un po' più accordo Sì però Voglio fare impresa Non voglio fare l'influencer Voglio fare impresa Perché ho studiato per questo Ho letto più di cento libri Che mi hanno dato Quella volontà Di fare impresa Perché io Quando tu mi parli Vedo nei tuoi occhi Il piacere dell'attività Che svolgi Non i soldi L'ho notato prima Quando Adesso non voglio dire Della campanellina Ma ci siamo capiti La felicità Che non è il denaro Ce la stiamo facendo A prescindere Io quello Io voglio arrivare un giorno E dire Ce la stiamo facendo A prescindere Quello che mi metto in tasca Sarebbe il mio sogno Assolutamente Poi tra l'altro Tu hai detto L'attenzione al cliente Voglio che il cliente sia contento Hai detto Non vuoi i soldi Ma voglio che il cliente sia contento Praticamente Vuoi anche i soldi Perché quando il cliente è contento I soldi arrivano No sì Infatti Probabilmente sono stato Anche un po' ipocrita Non lavoriamo chiaramente Non siamo un'azienda no profit Vogliamo fare utile E anche quelle hanno bisogno Di soldi Giusto? Certo Però il discorso è Il discorso è In questo primo anno Secondo anno Terzo anno Non so Voglio dare Precedenza davvero al valore Certo Il mio discorso era Quando dai precedenza al valore I soldi arrivano Per forza Poi magari uno può vendere meno Per prezzi più bassi Per prezzi più alti Ma quando dai valori I risultati al cliente Come voi siete focalizzati Fate bene a farlo Perché C'è per noi Noi facciamo anche noi Contratti abbastanza elevati Se vai su youtube E vedi Da 10 a 150 mila euro Il punto qua Il punto è che noi Siamo confidenti Nel chiedere questi soldi Perché prima Abbiamo lavato per anni Facendoci un mazzo così E il prezzo da pagare È chiaramente Il backstage lavorativo E questo anche è molto difficile Da far capire no? Perché dietro c'è Un mondo che probabilmente Riesce neanche arrivare Chiaramente quando ho fatto La previsione contrattuale Prima di quella cifra Parlo del complessivo Certo Però siamo molto contenti Il primo anno Di attività Perché non vorrebbe Il primo anno fare Una previsione del genere Salvo recesso Salvo recesso Sono molto trasparente A meno dire le cavolate Non mi piace Salvo recesso Questi sono i numeri Chiaro Se domani dovessero Riccedere tutti i clienti Siamo a zero Però la previsione contrattuale È questa E finché è in corso d'opera Poi noi abbiamo anche Una lista d'attesa Di due mesi Mi piace molto Come ragione A parte che il fatto Che tu hai detto Non sono un influencer Noi siamo Un'impresa E si vede Perché avete un modello Di business Sostanzialmente L'influencer Fa solo video Solo tra virgolette Perché è un lavoro Anche quello E si fa pagare A visualizzazione O ti sponsorizzo Questo prodotto Ed è un lavoro Anche quello Molti non lo capiscono In Italia Ma questi qui guadagnano Per fare balletti Su TikTok Ho capito Ma sponsorizzano E fanno fare soldi A chi li paga Quindi è giusto Che guadagnino Sono dei venditori digitali Sono dei venditori Ma voi avete Un modello di business Dietro Quindi veramente complimenti Perché giovani così Si vede Si vede Che avete Il giusto asset Questo vi premerà Già vi sta premiando Ma vi premerà A lungo termine Perché insomma I valori che tu stai raccontando Che vedono in tuoi occhi Anche io lo vedo Sei trasparente Allineato con quello Che stai dicendo Quindi mi piace molto E vogliamo parlare Un attimo di alcuni Tipo Lorenzo Ruzza Cosa avete fatto per lui Sono molto curioso Perché prima Io non so i dettagli No Certo Però ho sentito parlare I loro ragazzi qui dentro Raccontami un po' Quello che avete fatto per loro Anche per far capire Cosa fate Ti dico Ruzza Qualche giorno fa Io ho mandato un messaggio Ho detto Per me sei come un padre Perché lui Un padre digitale Lui mi ha sempre parlato Con un rispetto immenso E noi ci conosciamo Da due anni Perché Il suo nipotino Poi Insomma Non so neanche se Se lo ricorda Ruzza Lui mi scrisse Mi scrisse lui E io rimasi Stupefatto Lollo C'è mio nipotino Che vorrebbe un video da te Me lo vieni a fare qua Ma no Mi mandi il video Sì Ho detto Ma scusami Facciamo un video Ma io non ce l'ho a tiktok Apriamolo insieme Tant'è che se Ruzza Può confermare o sconfermare Il problema tiktok L'abbiamo aperto Quei giorni insieme Che siamo stati a Milano Due anni fa Adesso ha dei bellissimi numeri Ho preso diversi orologi Da lui E la cosa più bella È quando Gli ho proposto Di fare questo Ruzza Watch Day Non che lui non ha Insomma Lui probabilmente Lo pensava da tempo Ma una persona Lavora tanto Quello che dice è vero Io sono in ufficio da lui Ha tre telefoni Non respira Veramente una persona Che lavora Non è un ciarlatano Alle sei si sveglia E noi ci vediamo Alle otto Quando stiamo insieme Per fare qualche meeting E lui mi ha detto Lorenzo Guarda A me piacerebbe molto Fare quest'idea Del Ruzza Watch Day Cioè regalare Un nostro Ruzza Watch In collaborazione Ma Non ho tempo E io ho detto Io ci sono Ho la mia struttura Che era da lì Lì appena strutturata C'erano le persone Che erano all'evento Che hanno strutturato L'evento in ufficio E lì in presenza Sono quelle che sono ancora Presenti nell'attività E diciamo che Io Non credevo A quei numeri Quando ho visto Che alle tre di notte C'erano dieci persone Con una campagna Di marketing Che abbiamo fatto noi Insieme a Lorenzo In accordo Perché Lorenzo È il marketing puro Certo Abbiamo contattato Un artista napoletano Stert Che ci ha fatto Le grafiche con i Simpson Abbiamo dato Questa Simpsonata Che ci siamo fatti riprendere Abbiamo fatto una fila Il colore verde Per accedere dentro Le palline Con la probabilità Di vincere Un Ruzza Watch Un altro Oppure un gadget È venuto Gian Domenico Un altro grandissimo Imprenditore Di Milano Che conosco E che ha fatto il giudice Per dare le estrazioni Quindi è stato Intrattenimento Sottolineo Intrattenimento E il regalo A Ruzza Watch Chi se n'è andato Senza Ruzza Watch È stato contentissimo Igualmente E voi avete proprio Creato Il formato intero Proprio di Ruzza Watch L'avete Ruzza Day Scusami L'avete organizzato voi Giusto? Il primo Ruzza Watch Day È stato creato insieme Questo nome In realtà È arrivato Noi volevamo dare un nome A un certo punto In una box domande Un fan Dice potreste chiamarlo Ruzza Watch Day Abbiamo preso questo nome E l'abbiamo creato insieme Dovrebbe esserci Un altro a dicembre Ma si sta espandendo tanto Lorenzo Ha preso tantissimi negozi Spero Mi ha in qualche modo Proposto di farlo insieme Spero di poterlo fare Non perché non voglio Ma perché Tocca capire anche La complessità Di quell'evento Come attività di marketing Sicuramente Credo anche che Lollo Baroc In questo caso Sia un po' fuori luogo E credo che il merito Sia suo E quindi Ma non per qualcosa Perché Ruzza Watch È di Lollo Ed infatti credo Che mi accorderò Per strutturare il marketing E poi lasciare a lui Il primato Insomma Perché io mi sono preso Dei meriti Che secondo me Sono stati importanti Perché abbiamo portato Tante persone Però È stata la prima volta Adesso voglio stare Dietro le quinte Insomma Questo è quello Che voglio fare io Chiaro E senti Quante persone avete portato? C'era il pianone? 800 800 persone Nel suo punto vendita Allora guarda Diciamo mille Perché chi andava Chi vedeva la fila E se ne andava Abbiamo bloccato tre isolati Molti hanno detto Eh una bugia Non è vero tre isolati In realtà sì Perché lì ci sono tre isolati E c'erano le guardie In ogni marciapiede È venuto Pucci È venuto il Adesso mi sta venendo Un lapsus Andrea Liconti È il ragazzo Che fa il commerciante Su TikTok Che vende Chiaro Ok E non è Lo intervistiamo Ovviamente Come Paruzza Chiedete a lui Ma non è di Milano Giusto lui? Lui è di Milano Ah di Milano Io avevo un'idea Diversa di lui Quando l'ho conosciuto Una persona veramente In gamba Mi ha dato anche lui Una grande mano Siamo stati insieme Simpaticissimi Ecco questo è il bello Del network poi Certo certo Assolutamente E senti Complimenti di nuovo Per il Luzza Watch Day Tanta roba Tanta roba veramente Ti faccio un'altra domanda Quando è Voi come fate A studiare un format Perché insomma Abbiamo parlato Della gioielleria Giusto se non erro Sì sì Un brand di gioielli Un brand di gioielli E poi abbiamo parlato Anche del food Se non erro No? Il settore food Settore food Food and beverage Sì 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 Quindi Come fate Sono settori molto diversi Com'è la vostra strategia? Cosa fate Con il cliente Quando lavorate con loro? Sì Abbiamo qualche settore Che ho dimenticato? Finanza Medicina Eh finanza e medicina Agostino e Max Se c'è qualche altro settore Perché sì È questa la bellezza Super spot per noi Allora se ti sta piacendo Allora se ti sta piacendo Questo contenuto È il momento Di fare il prossimo passo Il prossimo passo È quello di partecipare All'evento di tre giorni Arrimini Codice 1% La prima volta che lo faccio Ti assicuro che ti cambierà la vita Se sei un dipendente Professionista Imprenditore Qualsiasi posizione tu abbia Cambierà la tua vita Prima dal punto di vista finanziario E poi in tutte le altre aree Trovi il link in descrizione Con i bonus E tutto il resto E la migliore offerta È il momento Di fare il prossimo passo E di vederci dal vivo Clicca qui Allora come facciamo Diciamo che la nostra realtà È strutturata in questo modo Due nostri soci Sono operativi Sì E questo è chiaramente Una carriera professionale Importante Cioè loro sono sul pezzo Sulla qualità luce Montaggio video Tempi di pubblicazioni Descrizioni Che sono parte del marketing Mattias Che è prettamente Aspetto commerciale Un pro Un bocconiano Di grande rilievo Lui non vuole dire mai Che è un bocconiano Di rilievo Ma lui si è laureato In bocconi Con un elevato voto Lavorando tanto E quindi In bocconi c'è Obbligo di firma Cioè insomma In alcuni corsi Lo stimo moltissimo Per questo E volevo dire che Io faccio il direttore format Io faccio direzione format Sul campo Quindi io Sono sempre presente Le prime due volte Tre volte Anche sempre Dipende poi dal cliente Per far sì che Tutto vada bene E sono anche L'ideatore format L'ideazione dei format Noi diamo un arco temporale Perché il format Non posso stare seduto qui E pensarlo È creatività Che è un plus E io sto Molte volte Sto sveglio la notte Ho il mio ipad Dove faccio i miei disegni Faccio le passeggiate al parco Non bevo alcol E non fumo Perché credo Che possano distarmi Dai momenti Con gli altri Questa è una cosa Che non so se siete d'accordo Se io vado Questa sera in discoteca Io non vado in discoteca Ma non me lo posso permettere Perché È una distrazione troppo forte Ma spero di andarci un giorno Con futuro Quando sarò più stabile Faccio una cena Con Mattias Martina Con te Con i tuoi collaboratori Se comincio ad essere Un po' ubriaco Probabilmente La creatività Che mi può arrivare Dalle conversazioni Dalla lucidità Viene meno Quindi io mi faccio veramente Passeggiate al parco Mi sveglio alle 6 Faccio una passeggiatina Oppure vado a dormire tardi Perché mi vedo un film Una reference Un libro Eccetera Quindi Io do l'idea astratta Molte volte io do 15 giorni di tempo Al cliente Ma Non propongo tanti format Ne propongo uno Perché io devo Concentrarmi su quello Il cliente mi dice Non mi piace Ok Tanto il contratto Nasce Tanto è bruttissimo Un po' Ciociaro Il contratto Entra in vigore Nel momento della pubblicazione Del primo video Quindi non ti piace Ok Ne facciamo un altro Però deve essere vincente E quindi sì Molte reference Molta creatività Cosa succede Dal momento in cui L'idea astratta Nasce Entra in gioco Mauri Il ragazzo di cui ti parlavo Che è laureato in cinematografia Dove concretizziamo Nella realtà La possibilità Tempistica Del format Qualcuno Economica con Matias Matias potrebbe dire Guarda che questo format È bello ma è efficiente Noi abbiamo un cliente svizzero Cavolo Abbiamo dimenticato Un cliente svizzero Che lavora Nell'ambito musicale Dove dobbiamo creare Un format che permetta Al cliente La sostenibilità Non posso dire al cliente Andiamo sulla luna Devo trovare E quindi ecco Poi c'è il videomaker Che non mi piace Il videomaker Perché è un qualcosa in più Che cosa facciamo con lui Vediamo la fattibilità All'ultimo livello Quindi Io astratta Mauri concretizza Fattibilità sul campo Omar Tanta roba Quindi è una cosa molto Cioè noi ci diamo Veramente Poi quando vedi un video Dici Madonna molto semplice È là il concetto Perché è la semplicità Che vince Certo Però c'è uno studio dietro Che è fatto Per ottenere risultati Sì Quello E noi facciamo anche una cosa Che spoiler Che è il database format Quando per esempio Abbiamo il tempo libero Noi ci mettiamo in ufficio E creiamo dei format generici Per determinate realtà Che abbiamo in un cavo Io lo chiamo il cavo informativo Dove noi abbiamo Dei format per i ristoranti Poi quando un ristorante Si presenta Io cerco di capire Se quel format Può essere in linea Questo serve ad avvantaggiarsi Ad avvantaggiare il lavoro Ma non perché non vogliamo Perché quando un cliente Vuole iniziare Vuole iniziare subito Certo E quindi è quasi una fase Bellissimo questo database format Mi piace Database format Diciamo che io invendo Un sacco di nomi Sì no ma è bello Proprio il concetto Oltre che Oltre il nome che è bello Il nome Ma è bello anche il fatto Che vi portate avanti Con la creatività Così almeno Quando arriva un cliente In questo settore Lo aggiustiamo Lo modelliamo E abbiamo quasi 50 format È in questo database format Rebbi e Dani Che mia madre è una parrucchiera Era un format per i parrucchieri Quando mia madre ha detto Non voglio farlo con le mie clienti Perché un po' mi vergogno Voglio farlo solo con mia figlia Allora ho modellato Un format commerciale Per un format familiare Ecco questa è l'idea Ok Fammi sapere Tua mamma ha aumentato i clienti C'è stato un po' di ritorno Allora Innanzitutto ti dirò questa cosa Mia madre non ha voluto inserire Alcun dato riguardo la sua attività E tu mi direi perché Perché mia madre ha comunque 52 anni Non vuole Lei è una ragazza Stavo dicendo Una signora che subisce un po' Il digitale Perché non è abituata Però c'è stato un fenomeno Qualche cliente in più C'è andato bambini Ragazzine Che chiedono il taglio di mia sorella Ti parlo di anche importanti numeri Ma non c'è Cioè quindi che cosa è successo È ampliata la conoscenza Delle persone del nostro posto Perché una persona di Roma Non sa neanche dove sta mia madre Perché nel format Il negozio è chiuso Perché noi giriamo i video alle 7 Ok Quando mia madre chiude Quindi è interessante Però mia madre non ha voluto Esplicitamente anche su richiesta di Mattias Perché quel progetto è completamente finanziato da noi Non ha voluto Noi abbiamo detto Guarda Daniela Dani Cioè Qui c'è un bel percorso commerciale Non voglio farlo E chiaramente io sono Ha un po' paura insomma E anche mia mamma non vuole apparire Però io Fino a che io non la chiamo Davanti al pubblico Sopra al palco La chiamo per fare uno scherzo Per fare finta di fare una chiamata fredda E poi mi martella Però la mettiamo comunque sui social Giusto? Sì sì Ma capisco la generazione Nel senso che Mia mamma parte che Ha 70 anni Quindi è diversa dalla tua mamma Sicuramente Però è normale Non vogliono apparire Perché ci sono dei blocchi Che è di un'altra generazione Certo Lei non è nata col telefono Lei ha Instagram Perché vi ho messo io E senti Tu cosa ne pensi Della tua generazione Della vostra generazione Tu sei un gen Z Si può dire che è un gen Z Siete un gen Z Perché anche tu Voi ragazzi Siete un gen Z Ma io sono un millennial Sono differenze No Cosa ne pensi Dei ragazzi Della tua generazione Allora Credo Che ci siano tantissimi talenti Perché il mondo va più veloce Le informazioni arrivano prima Però Ho paura di dire questo C'è anche molta inerzia Bias effetto gregge Se vogliamo utilizzare Un po' i termini Tutti seguono molto la massa Guarda ti faccio un esempio Questo periodo All'università C'è l'incontro con gli stage Sai che cosa succede? Che le persone vanno ovunque Per paura di rimanere indietro La paura Di essere esclusi E io dico a volte Scusami anche con gli amici di Stati Ma perché sei andato a fare Il colloquio con questa realtà Se non ti piace Ma per iniziare Ma cosa? Ma insegui i tuoi sogni Se non lo fai adesso A 30 anni quando hai un figlio Ma cosa vuoi inseguire più? Io ho deciso di non fare lo stage Con la mia università Spero me lo accettino Per la mia impresa Ma io voglio inseguire il mio sogno Questo attivo Vedi? Cosa succede? Tutti fanno la stessa cosa E io ho detto a Martina L'altro giorno Ci sono all'interno Nella nostra università Delle persone Con un'elevata capacità mentale Che a me mangiano proprio in testa Però Non inseguono secondo me molto I loro sogni Probabilmente tra 40 anni O starò sotto un ponte E loro saranno amministratori Non credo Delegati Ma io non dico questo Non è un fattore di successo economico È un fattore di sogno Poi è chiaro Qualcuno può dire Voglio fare il calciatore A un certo punto Devi anche capire Quando il sogno sta Certo Il sogno deve essere In pochi posti Diciamo la verità Devi fare un'analisi giusta E quindi cosa penso ai ragazzi Penso che siano molto talentuosi Alcuni si perdono Non si rendono conto Che stanno sprecando la loro vita Io molte volte dico Alla mia ragazza Questa cosa qui Lei vive ancora Sora È più piccola di meno È in questo paesino E dico guarda Tu ti rendi conto Quanti Ci sono persone I miei amici di sempre Le sono persone speciali Persone che si hanno da fare O un mio amico Che è diventato commercialista subito Però Certe volte le dico Ci sono alcune persone Quelle che mi hanno criticato tanto Che mi hanno criticato 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 Ma alla fine sono quelle Che stanno al bar A spendere 150 euro a settimana Quando potrebbero Investirlo in formazione Eccetera Poi Mattias molte volte mi correge Mi dice Ma dipende anche Dalla realtà familiare In cui vieni Nel senso che Alcuni potrebbero Insomma Per loro è difficile studiare Perché devono fare altro Devono pensare Oppure vogliono distrarsi Per problemati Quindi non sono uno che giudica Però Non sono anche Un perbenista Che dico A un ragazzo Che ha 18 anni Si droga Beve Spende tutti i suoi stipendi A quella roba lì Dire Ah vabbè una sua scelta Non è una sua scelta Io Se sono un amico Ti dico Secondo me è una scelta sbagliata Perché Credo Che Delle sostanze che facciano male Facciano male Basta Sprecare il tuo denaro Dietro quelle sostanze Fa male Poi che tu vuoi comprarti Con 2000 euro Un cartier Un anello cartier O qualcuno che le risparmia O qualcuno va sulle Dolomiti Quello non mi interessa Ma spendere denaro Per sostanze che fanno male Per me È un errore Punto Ingiudicabile Non è È no Però perché No Quindi io I miei amici Ho paura Però diciamo che Non ho tanti amici Che hanno preso Stare sbagliati Però Sono d'accordo con te Sono d'accordo con te 100% E meno con Mattias Perché comunque Secondo me la famiglia C'entra poco C'entra la testa No forse Sai che cosa volevo dire io Con questa cosa Noi parliamo tanto di questo È un discorso che affrontiamo sempre Io dico questo Io sto studiando Ma perché Mia madre Fortunatamente È stata bene Due anni fa Mio padre è stato bene Mia sorella è felice Ma se Fossi stato in un contesto familiare triste Là è difficile giudicare È più difficile È più difficile Se fossi nato Completamente povero Quale opportunità avevo Io sono fortunato Che ho potuto studiare In una pubblica Perché io mi sono laureato In una pubblica Adesso studiando in una privata Ma fortunatamente Adesso ho un rientro economico Ma quando ho studiato Mia madre mi faceva trovare Il piatto di pasta Quando tornavo Questo è il discorso Non la famiglia Che dava dei principi Perché i figli di medici A volte sono tossici E i figli di tossici A volte sono medici Il discorso Madias se vuoi entrare E correggere questo discorso Perché mi sono permesso Di dire Corretto giustamente È giusto Sei capito Però sei d'accordo Un po' con me su questo? Dipende Secondo me c'è un livello Quando ti mancano Le materie prime Diciamo Le cose basilari No primarie È lì difficile veramente Parlo Che ne so Dei bambini in Africa Che non hanno niente Lì ovviamente Devi aiutarli In Italia Ci sono situazioni simili Quando invece La base di sostentamento Sopravvivenza Che è una così C'è Lì puoi fare un po' tutto No? Puoi fare secondo me D'accordissimo Ci sono tanti esempi Di persone Che se lo vogliono veramente Invece di stare al bar Io uno di quelli Che andava al bar A vent'anni 23 avevo cambiato Però vent'anni Giri di moiti 150 euro in una sera E non avevo E prendevo uno stipendio Di 1200 euro Però A me dà ancora più fastidio Quando quei soldi Non sono di tuoi genitori Quello Io spendevi i miei Però perché andavo a lavorare presto Perché non avevo i soldi Per Volevo i soldi miei Quindi non sono andato all'università Per quello Il punto è che Comunque Se uno vuole Se uno vuole Quando c'è la base Può fare di tutto Ruzza insegna Nel senso Ci ha spiegato anche Le sue origini Tutto quanto E quindi Non è una scusa Se tu hai potuto studiare Un altro no Per l'altro Per non fare O per giudicarti Sì E che poi Giacomo Mi permetto anche di dire questo Io ho studiato Ma come puoi notare Io mi sono Sempre dato da fare A volte ho anche fallito Con dei progetti Ma anzi Diverse volte Perché l'idea Di stare Sotto la spesa Di mio genitore L'università Per dire ho preso 30 Non mi va giù Poi casomai mia madre ancora Mi manda i pacchi Da sora Con le salsicce Di mio nonno Perché sono Sono molto buone Qui non c'è Purtroppo a Milano Manca questa materia Prima Mio nonno ha un orto Quindi all'orticello Però Io voglio dare il massimo E io conosco persone Che sono all'università Che hanno una media del 18 O una media del 20 E che a casa Stanno tutti il giorno allungate E che vengono a dire Quest'esame è difficile Dico Amico E io che ti devo dire Che poi Aprire una start up Un SRL Non è come andare a lavorare Da dipendente Le responsabilità sono immense Non puoi riposarti mai Noi abbiamo delle spese importanti Già soltanto il notaio Per dirti È una spesa Che per 23 anni È importante Cioè per una società Ti costa 1.500 Fino a 3.000 euro di notaio Poi noi siamo Start up innovativa Quindi diciamo che Quello che voglio dire È Se vuoi puoi E io una cosa che Io ho tanti difetti Caratterialmente Sono un po' particolari Però una cosa È che io veramente Dormo poco Cioè dormo poco Nel senso Riposo le otto ore Che serve Ma Tutto il tempo Della giornata Lo utilizzo Per fare qualcosa E lo possono dire Le persone che stanno con me Io non È molto raro Che mi trovi a vedere Un film il pomeriggio Forse prima di dormire Ma è un lavoro Magari il sabato pomeriggio Il domenica Ma tu mi credi Che io non sono così Molte volte i miei amici Dicono ma perché Non vieni con noi a cena Perché io voglio stare a casa Casomai A leggermi due pagine di un libro E poi mi faccio la doccia Però voglio avere il mio flusso Le mie cose Cambierò Già non è che sarò così per sempre Però adesso ho bisogno di questo C'è un momento In cui devi spingere Giusto Tu stai facendo quello lì Ti faccio un'altra domanda Tanto me l'hai servita In un piatto d'argento E lo chiedo sempre a tutti Qual è la tua routine Vediamo un attimo Sono curioso E già l'ho intuita chiaramente Sono curioso però Credo che sia molto diversa Dai tuoi coetanei Allora ti dico La mia routine è questa Io a 13 anni Ho iniziato E smesso allo stesso tempo Di essere un ciclista professionista In elite Però a 13 anni L'elite insomma Non è che venivo pagato Quindi ho avuto sempre Una grande passione Per gli sport Individuali E di forte sacrificio Poi ho smesso Per una questione Diciamo abbastanza forte Perché ho un gomito ricostruito Ho avuto un incidente Non lo sa nessuno Questo non l'ho mai detto Il mio gomito sinistro È ricostruito Con una placca di titanio Per andare in bicicletta? Sì Lì ho smesso Mi sono arreso È stato il mio primo fallimento Non ho continuato Da lì Ho continuato però Atletica E corsa a piedi Da solo Corsa a piedi So che qui a Milano Non si dice Ma nel nostro loco Si dice correre a piedi Comunque vado a correre Ok Running Running sì Perché uno dice Giustamente certo Vai a correre a piedi E poi che cosa Allora La mia routine di adesso Quindi ho messo Questo excursus Per dire cosa Io mi sveglio Generalmente Presto Ma perché vado A lezione universitaria Sono una persona Che frequenta Ok Quindi io frequento E devo svegliarmi In un'area direzione Cerco Cerco Di mangiare Salutare Ma io abito da solo a Milano E sto oggi sviluppando Le capacità curinare Adesso ho iniziato Un percorso di calisthenics Diciamo che non sono Come puoi notare Di grande corporatura Perché ho sempre fatto sport Che tendevano a Asciugarmi Però adesso sto iniziando Calisthenics Non per diventare Ma sempre per potenza Forza Quello che faccio invece sempre Sempre Tutti i giorni Tutti i giorni È generalmente Prima di cena Una passeggiata Dove inserisco Nella mia playlist musicale Canzoni attuali Molto aggressive Anche rap crudo Ascolto Non musica classica Ma Un po' più poetica Tra queste c'è anche Vasco Perché Vasco Per me è una persona Fortemente creativa Consiglio a tutti Pubblicità Ma la nuova serie Sto guardando proprio adesso Dove ho osservato La star La star creativa Che nonostante La tossicodipendenza Lui è comunque Ancora una star lucida E inserisco poi All'interno Dei video Non di economia Ma Di grandi oratori Alessandro Barbero Anche commerciale A me non piace andare a trovare Quella persona Alessandro Barbero Saviano A prescindere Gosti politici Ma Barbero È una persona Che mi ha dato Quella capacità Non ce l'ho Però mi sta dando Insomma Dei aiuti Per Per avere Giuste tonalità di voci Gesticolare non troppo È una cosa che io faccio Per me Barbero È uno storico Di grande rilievo E ecco quello che faccio Quindi In quella passeggiata Io prendo questi flussi Prima di dormire Guardo generalmente Mezz'ora di film O di ne E poi leggo 3-4 pagina Ad oggi Perché non riesco a leggere di più Prima il pomeriggio leggevo Questa è la mia routine Quindi Non so Forse è un po' confusionale Ma la cosa su cui punto tanto È questa mia passeggiata Che è la mia passeggiata creativa Perché per il lavoro che faccio Se io non riuscisse ad avere quel tempo Non riuscirei a creare format Banalmente Ti dico questa cosa Domani creeremo un format Per un'azienda Che non posso spoilerare Non posso spoilerare il format Perché abbiamo un diritto di esclusiva A una grande impresa Dacci un dettaglio Che Gli altri possono ricollegare Quando è uscito fuori questo format Sì sì Spero faccia successo È un brand Di rivendita Ok Perdonatemi È un'azienda Che rivende Brand di lusso usato Ok Stupenda Un'organizzazione fantastica Sanno lavorare forte E tra l'altro All'interno ci sono anche Dei personaggi famosi All'interno di questa azienda Il format Che domani lavoreremo L'ho preso Come reference Da Alice nel Paese delle Meraviglie Con il cappellaio matto Da questo È nato un format Che non ha Niente a che fare No Però Da quella visione Io ho scritto Quasi come Non dico un artista Perché non lo sono Ma quasi come No Un cantautore Non so Io mi sono messo A scrivere il format Dico potremmo partire da qui E trasformarlo Da un punto di vista commerciale Quindi per farti capire Alice nel Paese delle Meraviglie Un video youtube Mi ha fatto partire Quella scintilla Capisco quello che dici Perché guardando proprio Il documentario di Vasco Durante Una challenge gratuita Che facevamo Dando tra l'altro Tanto valore E forse anche troppo Ma per promuovere Il nostro evento Dal vivo Dove ci saranno più di mille persone 3 4 5 novembre Se non vi siete iscritti ragazzi Qui sotto trovate il link A noi l'invito è gratis L'invito non è gratis A pagamento Ma per quello che diamo Come se fosse gratis No neanche per noi Per voi è gratis Ah ok Ci stavo già rimanendo male Hai detto a noi Per voi sì ragazzi Per voi è gratis Allora ci saremo No scherzo Ammesso che mi promuovete L'evento da qui a fine Allora Sto scherzando Venite pure Comunque stavo dicendo Stavo parlando di Vasco E tutto un tratto Dicevo Ho detto Ecco Bisogna fare come va Io dico dell'1% L'1% dico Voglio tutto Come stai facendo Mi piace Perché sono molto allineati E stai parlando Con altri termini Stai dicendo molto Quello che noi Stiamo facendo E professando E io dico sempre Che voglio Tornare come quando ero bambino Quando eravamo bambini Dalla mattina Fino alla sera Con i piedi Sporchi La sera Mamma mi chiamava Alle 11 di sera D'estate E io andavo a letto Non volevo dormire Poi ero cotto Perché tutto il giorno Tan 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 A giocare E non bisogna fare la stessa cosa Tu hai detto la stessa cosa Ti svegli la mattina presto E fino a sera Martelli 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 E io ho detto Dico sempre Vuoi un pezzetto Tutte le torte Vuoi l'orlodo Vedi che anche tu ne hai uno Vuoi i beni di lusso Ma soprattutto Vuoi aiutare le persone Vuoi dare lavoro alle persone Vuoi stare con la mia famiglia Vuoi stare bene fisicamente Relazione e tutto E io voglio non sopravvivere Io voglio supervivere E questa cosa L'ho detto Durante la challenge Mi è venuta da Vasco Rossi Dal super vissuto Dal super vissuto Ecco le reference Quindi vedi che è una cosa Assolutamente Quando tu consumi Ma stai attento Dove vuoi andare Come tu stai facendo In questo momento Prendi da tutto Prendi da qualsiasi aspetto Che non c'entra niente E lo porti dentro E ti dirò E anche come Come vivi il consumo Come vivi un servizio Ti faccio un esempio Quando io prendo Degli esami universitari Faccio un esame universitario Io li faccio miei Sai in quanti podcast Ho parlato di esami Che ho fatto E molti dicono Madonna Ho utilizzato una frase Il professore Sì Ma se no che stiamo facendo Che me ne frega del 30 Che ho una media Comunque del 29 e mezzo Quindi diciamo Che non la faccio così Tanto per Ma io avevo questo Lo dico sempre Questo professore di marketing Interrenale Che mi ha detto questa cosa Che tutti hanno banalizzato In una clip tiktok Che ha fatto 3 milioni E tutti a dirmi Eh è una cosa banale Ma in realtà mi ha detto questa cosa Per vincere sul mercato Devi parlare Con lo stesso grado Di complessità Dell'ascoltatore Certo Non posso parlare A mia nonna Con termini algoritmici Ecco perché io sono Un pro Barbara D'Urso Ecco perché sono Pro quell'ironia Che tutti definiscono trash Dipende dove vuoi arrivare Volevo parlare Se vogliamo arrivare alla massa Parliamo con il linguaggio Della massa Se vogliamo parlare All'università Parliamo con il linguaggio Accademico Chi dice che è giusta Una cosa O sbagliata l'altra Per me sta sbagliando Però dire una cosa del genere Un 23enne Dico ma tu che ne sai Io penso questo attualmente Che il grado di complessità È importante Adesso io sto parlando con te E cerco di dare il mio meglio Di darti No? Di non parlare In maniera spicciola Con mia madre Dico mamma dai Che facciamo 100.000 visual Domani Spingi forte Questo è il mio grado Di complessità Sì sono d'accordo con te Noi questo lo insegniamo Nel marketing Cioè parla il linguaggio Del mercato Insegniamo a capire Con una ricerca di mercato Diversa da quelli Che fanno gli altri Molto sul campo Quali sono problemi Desideri Frustrazioni Obiezioni E linguaggio Con cui le chiamano Il tuo mercato E tu lo usi Nelle campagne Che è esattamente Quello di ciò Si chiama Libero di consapevolezza E fa la differenza Quelli che ti dicono Banali Torniamo al livello Di haters Vorrebbero dire le cose Perché loro le sanno E dicono Cazzo lui l'ha detta E io no Ecco quello che le stanno dicendo E quindi ti ammirano Giustamente ti ammirano E fanno bene Ora detto questo Mi hai parlato prima Abbiamo parlato della routine Mi piace molto il fatto Che tu non bevi Cosa vuol dire non bevi Allora diciamo che io Ma guarda ci sono persone Che testimoniano questa cosa Io penso di essermi Ubriacato alla mia laurea E altre tre volte Però lo volevo fare Perché era quel contesto In cui ubriacare Nei limiti Nei limiti Mi piaceva Ecco io bevo pochissimo Bevo pochissimo Perché mi disturba Anche lo stomaco Non rego Quindi sono anche Un po' di parte E non credo Che sia il momento Per poter cedere Perché Il discorso è questo Se io sabato sera Mi diverto troppo Io domenica mattina Non produco Se io non sono creativo Forse nemmeno lunedì Nemmeno lunedì Ma attenzione Non è quello il problema Perché molti dicono Una volta che ci fa Una volta che ci fa Questa è una frase Che mi hanno detto Oggi in classe Una mia amica E no Il problema è il vizio Cito Casa dei One more time E parlavano proprio Dei demoni I demoni esistono Io ne voglio stare lontano Io sono una persona Esosa Mi piace Mi piace farmi dei regali Con la società Adesso ci faremo Io e Mattias Un nuovo regalo Lui è un po' in disaccordo Quale regalo Quale regalo Beh lui Si occupa delle finanze Ecco perché Eh sì Allora lui Posso dire una cosa C'è un gioco Tra di noi C'è un gioco Allora Devi sapere questo E questa è la realtà Mattias quando dico Dai Matt Con questo lavoro Che chiudiamo Compriamoci due goyard Due borse goyard Goyard E Mattias dice Ecco un'altra baroccata Perché Perché io sono quello Che trova il dispendio economico Ma io chiaramente Sono una persona Che poi dice Mattias Possiamo farlo Non possiamo farlo No Però per premiarci Quindi questo per dire Sono una persona molto esosa Cioè una persona Che piace l'orologio A 23 anni Mia madre mi dice Eviterei Mi piace Ci siamo regalati Questo anello Io e Mattias Questo anello Cartier Che per me è un gesto di unione E che ha anche Un valore economico importante Per dire Cavolo Non è da tutti L'abbiamo preso noi A 23 anni A 23 anni Io sono molto contento Quindi il discorso qual è Attenzione ai demoni Perché Non è la sera che bevo E che a me potrebbe piacere quello Io sono stato con tante ragazze Nonostante non sia Brad Pitt Non sia bello Siamo un bel ragazzo Però nella norma Nella norma Più che nella norma Però sono stato con tantissime ragazze Forse più di 50 E questo è un demone Per me Mi distrae molto Oggi sono fidanzato E sto al mio posto Ma quando guardo una ragazza Per me è tosta E cito Luca Castadè Perché quando l'ha detto Ho detto Porca miseria Lui è arrivato lì Io lo sto vivendo adesso Banalmente non fumo Perché potrebbe piacermi Non ho mai provato Una sostanza stupefacente Perché ho paura di perdermi Quindi non voglio fare l'ipokita Non lo faccio Perché sono un bravo ragazzo No Non lo faccio Perché ho paura dei miei demoni Questo è il tema Certo Perché probabilmente Una persona più forte di me Te Mattias Non so È in grado di reggere E quindi dire Ok fine Io ho paura di non saper Poi reggere quel piacere Cioè stare in discoteca Col tavolo Con tante fighe È bellissimo Ma poi se mi divento Un vizio Io ho finito Io non voglio citare Una società Ma non so se ti ricordi Un caso Di una società italiana Citiamo Dai Non voglio farlo Perché è un tema delicato No vabbè Guarda te la ricorderai Di questa persona Che ha creato un impero E che poi È stata trovata Con Tussi credo Comunque Una sostanza stupefacente Festino a casa Dove questa ragazza È stata stuprata E l'ha denunciata Il giorno dopo È una delle realtà Imprendonate più forti Poi ve la dico fuori Più forti d'Italia Lui ha praticamente Distrutto la sua vita Quindi dico Il vizio c'è Anche di fronte ai milioni di euro Quindi non voglio Assolutamente Sono d'accordo con te Io non Tu hai detto Magari tu e lui Facendo riferimenti Non casuali Siete più forti di me Anch'io non ho mai Fatto un tiro di sigaretta E di nient'altro Mai Nessuna droga provata Proprio per paura della dipendenza Chiaramente Sono dipendente Dalle cose Un giorno un mio amico Mi ha detto Ma perché non provi Perché ho paura della dipendenza Ma tu sei dipendente Ho detto da cosa Dall'allenamento Perché mi alleno tutti i giorni E cazzo Quella è una dipendenza buona però Deficiente Quello che stai facendo tu Non è buono Esatto Giustamente E poi posso dire anche una cosa Correggimi che tu sei Insomma molto più Insomma Puoi correggimi Perché non lo so Sono ancora piccolo per me Tutti abbiamo delle dipendenze Capiamo dove farle sfociare Io per esempio Sono una persona E quando vede un orologio particolare Ieri parlavo con Mattias in treno Mentre andavo al lavoro Mattias mi diceva No tu dovresti ragionare un po' di più Quando acquisti Adesso hai un Santos Giusto? Adesso ho un Cartier Santos Green Deal Preso da Ruzza 2023 Preso insieme a Marco Cappelli Tra l'altro Di Gurulandia Ciao Marco E sì Questo è un grandissimo orologio per me Perché tra l'altro In pochi sanno Anche qua me l'hanno banalizzata Che il Santos È stato il primo orologio Da polso creato Per Alvaro Santos Che era un aviatore Danno poco valore A questo orologio sul mercato Per i meccanismi Ma storicamente È il primo orologio da polso E per quello Io ho avuto E poi il Green Deal È bellissimo Bellissimo Sì 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 Confermo Forse è il mio prossimo acquisto Ororosa Quello è lì Il mio prossimo acquisto Peruzza me l'ha fatto trovare subitissimo Lollo L'orologio Qual è il prossimo orologio Che stai pensando di comprare? Allora Sono in lista Dovrei dirti Quello che vorrei fare Allora Ti dico la verità Il mio prossimo sogno È quello che hai tu Vorrei farmi un EP Però cronografo Non è È più bello per me Il Royal Oak Però il cronografo Mi piace Perché ho altri orologi E mi manca un cronografo Però diciamo che Non lo voglio fare quest'anno Perché è dispendioso Invece sono in lista Per un altro Oyster Perpetual Green Perché mi piacciono Gli Oyster Perpetual Li vedo molto per la mia età Parliamoci chiaro Dico molte volte a Mattias Ah ce l'ho anch'io Giusto? E tu hai il Tiffany Tu hai il Tiffany Il discorso è questo Il Daytona Io potrei switchare M'iorologio E farmi un Daytona Panda Ok? Non me lo vedo Un Daytona Per me Ha un senso Come la gravatta Io voglio mettermi la gravatta E so Ha un determinato fatturato E Mattias lo sa Quindi io vedo L'orologio Oltre che la bellezza Il valore economico Anche un po' In linea all'età L'EP lo vedo Molto leggero Il Daytona è pesante Quindi questo è proprio Il mio sogno del cassetto Però ho l'Oyster Che dovrebbero consegnarmi A listino Tra 7-8 mesi Se è vero Però Non ho preferenze Qui a Milano Eh no Io sono da Roma Ma mi hanno detto Ti faremo sapere Senti Torniamo Cambiamo un discorso Torniamo al Al tuo paesino Giusto Un paesino piccolino Sora Sì Ho lanciato bene Giusto E Quanto è stato importante Da quant'è che tu sei a Milano Sei qui per i studi Per studiare Da un anno E due mesi Quindi pochissimo Da pochissimo E Quanto All'inizio hai parlato Un po' della mentalità Se non ero Del paesino Quanto ha inciso per te Cambiare Tu che sei un ragazzo 23 anni E già ti puoi permettere Dei beni di lusso No Degli agi Degli sfitti Stai facendo bene Stai creando un'attività Stai State creando un'attività Stai facendo molto bene Con clienti importanti Quanto ha inciso Per te Trasferiti a Milano O comunque Fuori da Sora Nel paesino Allora Ti dico la verità Io sono sempre stato Una persona un po' Un po' sulle sue Poco influenzabile E quindi ho fatto In realtà Ad oggi L'80% Del nostro percorso È iniziato a Sora Sora È un paese Che io amo Perché È bellissimo È colorato È storico Tra l'altro Il sindaco è molto giovane Luca Che conosco benissimo E che Ammiro molto Perché abbiamo parlato Lui mi ha parlato Di digitale Quindi si sta È un paesino Che ha Quelle caratteristiche Problema qual è? Il problema è che Molti adulti Non l'hanno assolutamente Compreso Mi dava fastidio Quando andavano da mia madre Direi a tuo figlio che cosa sta facendo Poi io sono uscito Dallo scientifico con 98 Cioè Era una persona vista Comunque un buono studente E quindi Dice A buono studente sta facendo questo Ma io Ci vedo tanto In questa realtà E trasferirmi a Milano Ti devo dire A livello creativo Probabilmente Mi ha dato tanto Ma a livello di focus Non mi ha cambiato A me il giudizio Non mi ha mai toccato O meglio Sono stato male A volte non volevo uscire Ma quando stavo dentro casa Non stavo con le coperte A dire aiuto Non voglio uscire Continuavo il mio percorso Non volevo uscire Solo perché Felice in casa A lavorare Sull'associazione Trifinance al tempo Dei libricini di finanza Uscivo fuori Dovevo sentire Lo sguardo brutto E mi demoralizzava Quindi non volevo Facevo finta Della mancata esistenza Mattias lo sa bene Mattias sa che ho avuto Crolli forti Mattias tanto per capire Anche tu sei di Sora Giusto? Sì sì è di Sora Mattias Mattias è di Sora Ma noi Guarda gli dico Anche l'altro socio È di Sora Un altro è di Catania Mattias l'ho conosciuto Ai miei 17 anni 16-17 anni Ero con la mia fidanzata E prendevo il pullman 2 euro di pullman Da Sora Per andare a Roma Un'ora Ok Due ore Due ore Sì andate in ritorno Due ore Prendevamo il pullman Perché quello che mi piaceva Era andare oltre la mia realtà Non volevo restare a Sora Volevo vedere cosa era il mercato E giuro eh Incontro Mattias Con la sua fidanzata Quindi io A tre Sedili dietro al pullman E il pullman vuoto Perché prendevamo Quello della mattina Per farci tutta la giornata Mattias Apparteneva alla mia stessa scuola E diciamo che siamo Due caratteri molto forti Egocentrici E quindi non avevamo Questo grande appillo L'altro Stasora non ho mai raccontato Però siamo soci veramente Da quel giorno Scende dal pullman Aveva un cargo Un cargo Un pantalone Che oggi li vediamo Da zara ovunque Era il 2017 Io sono 2000 Io scendo E gli dico Ciao Mattias Come va? Stai andando a Roma anche tu? Ah che piacere Siamo dello stesso paese Che ne pensi Se mettiamo su questo cargo Una stampa E lo vendiamo 17 anni Mattias Sai cosa mi risponde? Sì Dopo due settimane Avevamo realizzato Il nostro progetto Eureka Dove abbiamo commercializzato La lingua latina Tant'è che ho anche avuto Uno scontro con la mia professoressa Che mi dice Come ti permetti Mi disse Come ti permetti Di strumentalizzare il latino Noi Guai No 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 I soldi fanno male I soldi Aiutare le persone Noi abbiamo fatto questi cargo Che al tempo Andavano i skinni Cioè i pantaloni stretti Il cargo oggi Abbiamo avuto Un riscontro ottimo Andando a Roma E conoscendo Barengo Facendo quanto costa Il tuo outfit A 17 anni Da lì e Mattias Non ci siamo separati Probabilmente abbiamo avuto Due litigi In tutto questo Arco temporale Che ci hanno allontanato In tutto Due settimane Discussioni Chiamate Discussioni Io quello che dico sempre a Mattias È Il migliore amico e socio E la ragazza Devono apprezzare I tuoi difetti Non conoscerli Perché Fare finta Che tutto quello Che tu fai Mi piace O mi possa piacere È una falsità Ma apprezzo moltissimo I tuoi difetti Cioè accetto i tuoi difetti Li apprezzo Perché so che accanto A quei difetti Ci sono dei grandi pregi Io sono anche Una persona particolare Io sono un pochetto artista Sbarello A volte dico No Mattias Voglio questa cosa E basta Voglio fare questa cosa E Mattias mi guarda E dice No non si può fare Oppure voglio mangiare Questa cosa qua adesso Metto in difficoltà Però sa anche Che quando poi Dobbiamo parlare di business E di creatività Insieme riusciamo A creare cose Bellissime Non parlo di soldi Parlo di cose belle Cose che non ho mai visto Ad esempio il format Di garment workshop Per me è un format Semplice Funzionale Bello Tanta roba Tanta roba Complimenti E ti faccio una domanda Una domanda fatidica Con Ruth abbiamo fatto Il test dell'orologio Attendibilità 99,9 Periodica E sono passati In modo schietto Trasparente Cosa ne pensi Tu hai visto Più o meno I nostri social Ho visto tutto E ho visto Principalmente Scusami Volevi farmi qualche domanda Del nostro Digital positioning Allora Ne parlavo Con te prima E quindi Quindi hai sporcato Un po' La risposta No sono stato io Che ho fatto questa cosa Allora Innanzitutto Voglio dire questo Non sono un esperto Da un punto di vista Qualitativo Allora Il format ha una qualità Del podcast Parlo Perché è la cosa Su cui mi sono concentrato Di più venendo Ha una qualità Stupenda Chi mette le clip È molto bravo Ne mettete numerosissime E questo è un segreto Di TikTok Perché TikTok Non premia il video bello TikTok premia La costanza precedente È capace Che metterai 300 video Tutti bellissimi Il 301esimo È uno a caso Ti farà un milione E tu guarderai I tuoi collaboratori Ma scusate Ma com'è possibile Che ho messo video Con Ruzza Con Steven Con Lollo E mi è andato Un video Dove io dico Perché TikTok Premia la qualità La costanza E i numeri Ed infatti Ho consigliato Proprio questo In un percorso Di podcast Che io seguire Io inizierò Un podcast E lo dirò Per la prima volta Lo dissi Se puoi dire adesso Sto spoilerando Questa cosa Farò un podcast E posso dire anche Il nome Perché è tutto registrato Che si chiamerà Il paese dei barocchi In me piace Bellissimo Il format è Completamente studiato Con una società Finanziatrice Quindi io sarò parte E non sarà Trefinance SRL A creare Ma sarò io parte Ma noi gestiremo Tutto l'aspetto comunicativo Molto contento Con delle persone stupende Che ho incontrato Che hanno voluto Con me creare Questo progetto Ma sarà Un fast podcast Cioè Dura poco Più che dura poco Sarà molto veloce Avrà tanti contenuti Eccetera Ma Quando io stavo creando Questo progetto Con gli altri Io ho visto il tuo podcast E la prima puntata Con Steven Che ho visto Qualità altissima Le clip messe benissimo Nessun errore Veloce Al punto giusto Che crea un engagement Ma ti piano Siamo vinto a pagare di più Ragazzi No Però ti posso dire una cosa Io ho visto altri podcast Io faccio Per me Da spettatore Gurulandia One more time Stanno lavorando molto bene Tu penso che iniziavo Da pochissimo Rispetto a loro Per me Quando ho visto la qualità Ho detto Che location Ho detto a Mattias Ho detto Ma dove cazzo stanno E la qualità Della camera Fortissima Che tra l'altro È la stessa Che utilizziamo noi Per i nostri progetti Infatti ti ho detto No E quindi Io credo che È molto forte Poi adesso faccio un attimo Il venditore Noi potremmo presentare Un format Dammi qualche punto Di miglioramento Prima del venditore Dammi qualche punto Di miglioramento Non mi ha detto Nessuna critica Guarda ti posso dire Sul podcast Io non trovo Nessuna critica Almeno Forse chi fa podcast Può trovarla Sul podcast Nessuna critica Sul format Io non trovo critiche Secondo me Sulla tua persona Potrebbero esserci Dei format Che incrementerebbero Il tuo nome Perché i tuoi servizi Spaccano E lo sanno tutti Ma Il tuo nome Su quella piattaforma Anche con un target Diverso Perché poi Che il pilastro Siano bambini Come dicono ragazzini Posso dirlo Sono la svolta Sono loro Che ti svoltano Ruzza Lo sa benissimo Che si guida Tanti bambini Ma i bambini Ti creano Il positioning E poi crescono I bambini Dopo un pochino Crescono anche loro Esatto Ecco quello Io Adesso non saprei Non format Però sicuramente La tua persona È estremamente carismatica Per un format standardizzato Perché qua È là anche un altro elemento di vittoria Però sto dicendo troppe cose Dovete pagare ragazzi Qui dentro Per vedere questo Questo episodio Bisogna pagare Bisogna pagare Però il format standardizzato Ha più potenza di video Invece che non hanno Che sono randomici Certo Ecco ti dico questa cosa Quando diventi un personaggio Su TikTok Su TikTok Non è la vita reale Puoi permetterti Di fare i video Un po' come vuoi No Quando devi diventarlo Devi standardizzare Faccio un esempio Donato è Con mollica ausenza New Martina Carmen È la pellicola Loro hanno creato Il loro personaggio Con dei format Non hanno Creato il loro personaggio Con dei video Cioè Loro sono il frutto Del loro format Che sono nati automaticamente Gigi pescheria Buongiorno pescheria Vendendo il pesce Format del Buongiorno pescheria Gigi Oggi può fare i video Che vuole Rita De Crescenzo Non so se avete presente Rita De Crescenzo È o bacino O culette La canzone No Lei ha fatto questi format Oppure faccianderra Questi sono format particolari Perché ci fanno riflettere molto Molto oggi È una star Cioè quindi Il discorso è io Per te Ecco Quello che farei Non per forza con noi Ma ho visto che sei pieno Di collaboratori competenti Prima parlavo Sono Trovato molto bene Trovare un format Potremmo parlare Un format più lineare Assolutamente Senti ti faccio L'ultimo paio di domande Importantissime Allora La prima domanda è Cosa consiglia la tua generazione Che a me Io dico la mia Sulla tua generazione Bevo un secondo intanto Bevi pure Io dico la mia Nel frattempo Per darti il tempo Anche di bere E la vostra generazione Che praticamente in questa sala Sei miei Che è il tuo team Insomma siete tutti Gen Z Credo Mi sembra Per me è migliore E non vuoi dare etichette In questo Perché ci sono le eccezioni Ci sono sempre È migliore della nostra Gen Z sono migliori Dei millennia I millennia sono un po' Coccolati E sono stati Nella bambagia Si dice Dalle mie parti Per molto più tempo Quindi comunque Io ritengo Che la vostra generazione Sia molto più sveglia Della nostra In ogni caso Però detto questo Tu cosa consigli Alla tua generazione Che vuole svoltare Perché chiaramente Chi vuole stare al bar Come dicevi prima Fare niente Lasciamo stare Ma gli altri Che consiglio dai A qualcuno Che vuole seguire le tue orme Non intendo solo nel digital In generale Allora Posso dire quello che penso E si Dico proprio Che bisogna lavorare Su te stesso Bisogna Allora Io credo Dico sempre a Mattias Questa cosa qua Il sacrificio È una fonte valoriale E Divertirsi è facile No E Non voglio dire questa cosa Siamo un po' un pessimista cronico Un po' un leopardiano Ma Credo proprio che L'assenza di divertimento Alla nostra generazione Fa bene Perché ci siamo divertiti Fino ai 14 anni Con i nostri genitori Che ci hanno dato tutto Anche le persone Che hanno il reddito più basso Hanno avuto tanto A parità di condizioni Con mia nonna Che andava a pascolare E mangiava una Una fetta di pane E prendere l'acqua al fiume E prendere l'acqua al fiume Mio nonno lo faceva davvero Che ha vissuto la seconda guerra mondiale Quindi cosa dico Per me Ridurre un po' Questa necessità Di doversi per forza divertire È l'età del divertimento Per me no Per me C'è una competizione È così forte Qua in mezzo Il nostro sogno Il nostro sogno è avere Quale macchina volete Allora Diciamo che io Ad oggi ti direi Che una macchina Che voglio Sognare Che posso prendere È un Cayenne coupé Come il mio Io un Cayenne coupé Un Cayenne coupé Però ti posso dire Sì Probabilmente Ti posso dire Un F12 Ho tanti Però ad oggi Il Cayenne coupé È una delle macchine Che vorrei comprare Però dico ecco Forse ridurre un po' Questo divertimento Che è quasi necessario Ma anche le famiglie Anche mia madre Ma dai Lorenzo Vatti a divertire Ma perché Perché ho in meno a te Per cui non posso lavorare Credo che ti diverti Lavorando giusto Ma tantissimo Io quando sono con i clienti Spero che qualcuno Lo abbia percepito Io voglio creare un format Veramente Ma io dico Ma che io Vengo da te cliente Ti prendo Quei soldi Me ne vado E sei scontento E io ho 23 anni Ma che cosa ci faccio Io devo Devo con il tuo portafoglio Con i tuoi video Io devo prendere altri clienti E è quello che ho fatto Che abbiamo fatto E puoi rinnovare il contratto Tuo Il tuo contratto Certo Certo Però Se io avessi fatto Con Agostino Un percorso Prettamente economico Perché Agostino Comunque è una persona Che rispetta il contratto In maniera Fedelissima E si parla anche Di importanti budget Perché Noi non siamo Un'agenzia di marketing Che facciamo sponsor Noi siamo tutti il giorno 24 ore su 24 on Quindi prevediamo Anche un buon compenso Se io Avessi fatto lui Una speculata classica Per dire no Cosa mi rimaneva Invece io credo Di aver creato per lui E con gli altri Una bella cosa Ha rinnovato Il contratto O deve ancora farlo Ha rinnovato Altri tre mesi Ok Quindi allora avete fatto bene Sì 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 E il metro è quello Di suddizio Dodici Altri dodici Ah dodici E vedi Ho detto una stupidaggia No sai perché Perché noi Generalmente alla fine Essendoci un mese Guarda Sembra proprio di parlare Al tavolo nostro Rinnovando Tre sei dodici Ma avendo un mese Di recesso Tu puoi fare come vuoi Anche perché non cambia Le nostre tariffe Non abbiamo delle agevolazioni Le tariffe sono mensili O Le tariffe sono mensili Poi dipende da come Preferisce pagare È annuale Ok è annuale Però generalmente Noi lavoriamo sul mensile Anche per renderti conto tu Del rapporto beneficio sacrificio Fantastico Complimenti veramente No grazie Senti Lollo Tutto fantastico Una domanda che ti voglio fare Ovviamente importantissima Noi parliamo molto Di vision Mission E soprattutto risultati Sia aziendali Sia miei Che di ogni singolo Collaboratore Che tu vedi qui dentro E Quali sono i vostri obiettivi I vostri obiettivi Imprenditoriali Da quei prossimi Diciamo cinque anni Dove volete arrivare A livello numerico A livello di impatto Dammi un po' queste aree Allora Sarò molto chiaro E specifico Perché Ne parliamo molto Allora Diciamo che a livello Organizzativo aziendale È quello di avere una struttura Un ufficio E di essere In qualche modo In espansione Non vogliamo assolutamente Venderci E svenderci E vogliamo Veramente rivoluzionare Questo mondo E poi noi lavoriamo su TikTok Ma domani potrebbe essere XYZ La nuova piattaforma E fare formazione all'interno Creare delle aree di lettura All'interno dell'organizzazione Creare delle aree Di creatività E addirittura Stiamo vedendo Per l'ufficio Che vogliamo prendere Una sala Che sarà completamente buia Con poche luci Dove si parlerà Senza guardarci Perché secondo me Crea Uno stimolo di suono Abbastanza interessante Per la creatività E questo è a livello organizzativo Il piacere Dei nostri collaboratori Questo è il mio sogno Cioè stare bene Come la immagini? Quanto è grande l'ufficio? Allora io me lo immagino così Io ho mio cugino Che è un designer Molto forte E quindi Ne ho già parlato Io me lo immagino Senza differenziazioni di ruoli Quindi non ci saranno Gerarchie Gerarchie Quindi Come posso dire Dei pavimenti rialzati O uffici completamente chiusi Mi pensavo Gerarchie a livello di personale No no perdonami A livello Parlo di design Di architettura Non ci saranno Uffici chiusi Per me Questa è la mia idea Dovrà essere confrontata Con tutto il team Open space Sì sì Open space Dove regneranno i colori La trasparenza E i colori Perché Alessandro Michele Che è Vedi Come per me è importante Vedere anche fuori Dal tema economico Che è stato Un grandissimo Direttore artistico Di Gucci Disse in un'intervista Che uno Dei suoi stimoli Per la creatività È circondarsi di opere d'arte Io invece ho capito Che uno dei miei grandi stimoli Sono i colori Perché i colori Creano serenità E la serenità può creare Quindi un ufficio Trasparente e colorato Parliamo di cose importanti Invece a livello monetario Allora Il nostro obiettivo Visti i contratti E viste le liste d'attesa Spero di raggiungere il milione L'anno prossimo Insieme al team E a livello individuale Ho un sogno nel cassetto Che è quello di comprare Una casa insieme a mia madre E sto già pensando Ho già l'idea Ho già chiesto E vorrei comprare insieme a lei Una casa che lei Ha sognato E poi non abbiamo più comprato Perché abbiamo avuto Questo incidente Lì c'era questa trattativa Adesso è cresciuto molto il prezzo Quindi non conveniva più Nel nostro paese A Sora Una casa molto bella E spero l'anno prossimo Di poter essere parte Dei risparmi di mia madre E dare io un contributo Essere falso E dire la comprerei completamente io No perché probabilmente Ancora non posso Ma essere parte Per realizzare questo sogno Questo è il mio primo sogno Individuale Oltre che chiaramente Diventare una persona Libera e benestante Tanta roba Tanta roba Complimenti Questo Non penso di avere Non penso di avere Altri obiettivi adesso Poi arriveranno Quando raggiungerai questi Vedrai Ho qualche altro obiettivo Secondo te Matt La macchina Orologi Macchina Questi più che obiettivi Sono passioni Che raggiungi Fai che sulla spalla Fai che sulla spalla Te lo devi Sul merito Dopo tutto il sacrificio Insomma Sono una Diceva Leonardo Leone Che abbiamo intervistato Mi è piaciuto molto Bravissimo lui Madonna Bravissimo Una medaglia E poi quando ti dai La pacca sulla spalla La medaglia vai avanti Fine Basta Che tra l'altro Diceva anche no Bellissima quella cosa Hai detto Sì una volta te lo compri Ok Anche io Quando ho comprato Questo cartello Dicevo Madonna Due giorni a guardare Poi ti passa Ti passa Mi è piaciuta molto Questa intervista Ovviamente rinnovo i miei complimenti Perché siete Ragazzi fantastici Già solo online Magari uno dice Può creare un'immagine Può vedere Invece è la realtà Confermo per tutti quanti Ti faccio un'ultima domanda Importantissima Sei pronto? Certo Super iper importante Ti dovresti essere preparato Tipo una settimana No sto scherzando Cavolo non mi mettere in difficoltà Che poi per tutti i clienti È molto importante È una domanda che faccio sempre In tutti i podcast Quindi l'avrei già sentita Ma per me è importante Capire E far capire A chi ci segue La risposta di questa domanda Cosa vuol dire per te Far parte dell'1% Allora per me Far parte dell'1% Vuol dire Far parte di Non persone Ma di pensanti Che pensano in maniera diversa Gli artisti Anche quelli di scarso successo economico Per me appartengono a quello 1% Perché si distinguono dalla massa E chi fa successo Morale Familiare Economico Non è la massa Perché la massa purtroppo Secondo me È sinonimo di Mediocrità E di fallimento Nella maggior parte dei casi Questo non voglio essere criticato Da tutti Dico che nella maggior parte dei casi Inseguire la mediocrità Ti porta al fallimento Invece in seguire il successo Può portarti alla mediocrità Però intanto ci hai provato Quindi per me l'1% È chi pensa in maniera diversa Chi insegue i suoi sogni Chi è leale Perché chi è leale? Perché poi alla fine Quell'1% Ci devi anche rimanere nel tempo Se sei leale Duri un anno Due Tre Anche 15 anni Online forse anche meno Online duri pochissimo Quanti sono scomparsi? Tu te ne sei reso conto? Avranno fatto sì Quel milioncino Poi No L'hanno ripreso tutto Capito? In molti casi Quindi dico per me E' questo l'1% La diversità pulita Ecco La diversità pulita Perché poi La diversità Non è sinonimo di successo Non tutti si fanno di eroina E quindi anche Chi si fa di eroina Potrebbe essere diverso No E' la diversità pulita La diversità razionale Fantastico Bellissima 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 Interpretazione dell'1% Una delle migliori Secondo me E ti do Ti faccio di nuovo I miei complimenti Sono contento Di averti avuto qui Perché secondo me E' un episodio bomba Veramente tanto Tanto valore E soprattutto Me l'hai chiesto tu Ma l'avrei chiesto comunque Tu verrai all'evento Ovviamente siete i miei ospiti E ragazzi Se vi è piaciuto questo podcast Questo episodio E sicuramente vi è piaciuto Allora Condividetelo Mettete mi piace Fate tutto quello che serve Nelle piattaforme Per condividerci E soprattutto Per diffondere il messaggio Di Lollo Perché è un super messaggio La diversità razionale Diversità razionale Hai cognato un nuovo termine Qui On the go Durante una risposta Live Come faccio con gli altri Lorenzo ti do Lollo Lorenzo Tu sei Lollo Ok adesso In questo momento Ti do la mia mano E ovviamente Ci siamo al prossimo episodio E' stato un piacere Veramente un piacere Alla prossima ragazzi Alla prossima